Soprattutto perché avete la costanza di tornare, quindi o siete matti, oppure siete masochisti. Una delle due, non ce l'è una cosa assoluta. Allora, se siamo tutti d'accordo, e ovviamente dobbiamo essere tutti d'accordo perché non c'è cospita di scelta, arriviamo a dire che è un po' una democrazia come quella di Corretto, cioè un paio di... Eh, è una finta democrazia. In realtà, mi dispiace che non c'è stato magari di altri incontri, però noi siamo andati avanti, nel senso che abbiamo creato quella che è un po' la base, le conoscenze per poter partire insieme, e la volontà questa volta, anche se non sono preparato ovviamente nessuno, ma io quando faccio una promessa la mantengo, la volontà era quella di leggere insieme i diritti umani e la Costituzione. Ve lo ricordate? Sì. Dove stanno? Stanno a portare. Qualcuno ce la metteva, lo metteva, ok. Beh, tanto girerà, non leggerò tutto io, girerà questo, girerà in modo tale che leggerete ognuno un articolo, in modo tale da farlo vostro, da rendervene conto da soli di cosa si parla. Prima di affrontare, di aprire questo, decidiamo insieme, qui, lo scegliamo insieme, decidiamo insieme come dividere questa giornata d'incontro. Siccome io lascerei comunque un tempo alle domande, ai dubbi, decidete voi, considerate che ogni articolo ci staremmo in mente a ogni decisione. E' arrivata a 53 euro. Vediamo. Ma i diritti umani sono 3, ma? No, è vero, scusate. Ah, ma non ci sono 50 euro. Ognuno lo so. Ora, cosa preferite? Preferite che svisceriamo prima le domande, adesso, e ci diamo un tempo? No, no, no. Siamo più esteri per il... Siamo meglio leggere prima, perché se non è meglio... Quindi facciamo il contrario. Partiamo con la lettura, visto che ancora siamo svegli, poi magari dopo... Così magari le domande sono più costruzioni. Esatto, bravo, grande, mi piace tantissimo, bravo, bravissimo. Bravissimo. Allora, dichiarazione dei diritti umani. Io vi ho sempre detto che basterebbe leggere la prefazione e già quella la dice lunga. Quindi parto proprio da quella, dalla prefazione. Mi raccomando, quando poi tocca a voi di leggere, alzate il tono di voce. E se alzate il tono di voce, vi entra di più dentro. Va bene? Non abbiate paura di urlare. Quando si urla la verità e la giustizia, non bisogna avere paura di urlare. Ok? Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inanimati, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo, considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbare che offendono la coscienza umana e che l'attento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parole e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione del mondo, considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima distanza alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione, considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le nazioni, considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà, considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire in cooperazione con le Nazioni Unite il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Questo ci vengo a rileggerlo, perché forse ci dimentichiamo che gli Stati membri sono gli Stati che hanno dato attuazione a tutte le disposizioni Covid, al progetto Covid. Mentre invece, considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire in cooperazione con le Nazioni Unite il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ecco per quale motivo io insisto in questo momento dove è il nostro dovere, con più diritto, dovere abbandonare tutto ciò che è successivo alla Costituzione. Perché passerebbe anche soltanto questo e non si può parlare di diritti intoccabili, non si può pretendere che venga rispettato questo e poi essere i primi promotori della corruzione, i primi promotori della non identificarsi autonomamente. Di che cosa sto parlando? Dei documenti identificativi. Come possiamo chiedere che venga rispettato questo se noi paghiamo credendo che ci è un obbligo identificare la nostra persona attraverso un documento emesso da qualcun altro che ha preso soldi da noi per mettere quel documento? Che scade e che va rinnovato esatto tutte le volte senza logica perché se solo vogliamo prendere il concetto del rinnovo della patente io vi chiedo per logica quale dovrebbe essere il primo requisito della revisione che dovremmo che dovremmo devo rinnovare la valenza di quel documento che mi è stato di mezzo per una mia eventuale capacità di guida di quel mezzo come minimo la prima cosa è che devo rifare l'esame di vita poi volendo essere anche più impegnoli l'altro requisito è che io continuo a conoscere la teoria perché la teoria cambia quindi i tuoi motivi fondamentali non sono pensi con stella ma che cosa si fa si fanno altri esami che si basano sul autodichiarazione ma guarda un po sono io che autodichiaro che sono sveglia non mi fa male niente non ho avuto problemi non ho fatto malattie mi sento bene e magari mi vedo anche bene o lo volete dire che erano tu vedevi stabilizzando dell'alfa tente visivo è un esame fatto con logica non non dire bene ditelo magari questo mistero lo fa quindi cerchiamo di essere noi prima di applicare la coerenza cerchiamo di essere inattaccati perché che è inimitabile che ci lei ha risposto col sorrisino si i diritti umani se la costituzione no signori i diritti umani e la costituzione sono ancora inalienabili vince ancora l'uno e l'altro perché l'uno l'uno ma non l'altro eventualmente non possono essere applicati perché per voler di qualcun altro è stato istituito uno stato reale di emergenza che secondo la costituzione è previsto o di guerra o di caratterizzare basta non ce n'è altro che scriva sono tu quindi nel momento in cui venisse istituito uno dei due stati di emergenza allora solo in quel caso la costituzione avrebbe un blocco ma non l'altro scritto comunque questo è il toccato considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni l'assemblea generale proclama la presente dichiarazione universale di diritti umani come ideale quando io vi dico che la costituzione di diritti umani sono concetti educativi per la vita umana non ci sono punizioni proclama come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni al fine che ogni individuo ed ogni organo della società attenzione a questo particolare organo della società ne ha detto autorità organo poi dopo andiamo a ad aprire questo concetto organi istituzionali autorità due cose diverse quello che noi abbiamo riconosciuto come autorità sono organi istituzionali al fine che ogni individuo ed ogni organo della società avendo costantemente presente questa dichiarazione si sforzi di promuovere con l'insegnamento e l'educazione il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirle mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale l'universale e l'obiettivo riconoscimento e rispetto tanto tra i popoli degli stessi stati membri tanto tra i popoli degli stessi stati membri che vuol dire i confini non ci sono sono convenzioni quello di parlare di stati di popoli ma poi tutti sono uguali quanto tra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione c'è qualcosa da chiedere su questa prefazione vero che basterebbe solo questa prefazione per capire chi siamo ha detto tutto che altra ci sarebbe a vedere è tutto chiaro l'individuo è al primo posto nulla tocca l'individuo se non sta bene l'individuo non si può creare la società e l'individuo deve stare bene psicologicamente moralmente e materialmente ecco per quale motivo leggeremo che uno dei diritti dell'uomo è di avere una casa non c'è scritto solo quello che la può costruire attenzione ogni articolo non dirà se diritti non c'è il ricatto non c'è perché è una società giusta perché ciò che vogliamo per noi lo dobbiamo volere anche per il prossimo non dobbiamo vivere nella gelosia nella malizia nella cattiveria non dobbiamo vivere quello più di me quello più di me non sta pagando i contributi e ve lo sapete che non esistono le tasse esistono i contributi perché se io oggi posso contribuire alla società con 100 domani non devo essere messo alla buona perché non ho dato 50 e devo dare il nuovo 100 ciò che succede ora e non si costruiscono le società così perché è inevitabile che ci siano le differenze perché colui che non può oggi anziché dare la possibilità di essere magari un umani lo sia si ammazza ancora di più e invece tantissimi anni fa c'era l'inclusione l'inclusione non è la finta inclusione che ci vuole proponare il governo l'inclusione è quella fatta di amore è quella fatta che apro le mie porte di casa perché un domani colui che potrebbe diventare più forte di me potrebbe avere più di me si ricorderà sempre di me se gli è andato con amore e se qualcuno sta ancora nel pensiero che no non è così perché poi c'è sempre quello che si approfitta non è del nuovo mondo il nuovo mondo lo alimentiamo in primis lo la dobbiamo smettere di aspettare l'altro se non lo fa questo no lo devi cominciare a fare tu tu fai poi ciò che fai produce chi non arriva arriverà e se non arriva vuol dire che non deve stare qui questo ricordate quello sempre perché altrimenti ricreiamo qualcosa che abbiamo vissuto stiamo vivendo e dal quale stiamo cercando di andarci di via perché ci siamo rispondo che non ha portato a niente se non alla distruzione totale perché obbligare qualcuno a credere che con l'assicurazione della macchina è a posto ha soltanto voluto dire alimentare la responsabilità dell'individuo umano e gli incidenti accadono guardi eh signori la gente muore guarda con l'unica differenza che colui che uscide è legalizzato da un documento perché dopo due tre anni viene rivisto di nuovo sulla macchina quindi se riportiamo il concetto alla responsabilità magari colui che non si sente di mettersi su quella macchina perché è solo e sa che quello che produce può essere l'effetto finale e gli risponderà in prima persona in totale magari non ci si sente sulla macchina non c'è bisogno del documento non ci si mette a priori punto domande considerazioni personali valutazioni a me ha colpito quando dice nel secondo paragrafo considerato che i popoli considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti dal nome giudice se si vuole evitare che l'uomo si potrebbe ricorrere come ultima instanza alla ribellione contro la piramia cioè è prevista anche la ribellione bravissima brava perché in realtà c'è stato ripresso anche questo istinto che è un istinto primordiale ed è previsto perché la differenza tra colui che è e colui che è esiste è proprio la ribellione è proprio il punto di rottura dove dici basta ed è il nostro punto di rottura ciò che noi stiamo producendo con quelle azioni che stiamo mettendo in alto è la ribellione ed è una ribellione che non si aspettavano perché loro si aspettavano ciò che avevano alimentato la guerra la guerriglia di strada esatto e invece gli stanno andando male perché stiamo mettendo in alto un qualcosa è ribellione nel silenzio ma è una forte ribellione perché sradicare tutte quelle chiamiamole le ribellenze come le volete chiamate tutte quelle consuetudini che credevamo fossero nostre a parte di questa la nostra vita sradicare tutto con la logica con la legge non con la pazzia perché loro speravano per noi pazzissime perché per chi ha letto le gazzette o ha sentito una minima cosa c'è un impiego impressionante di psicologi psichiatri psicoterapeuti e strutture psichiatriche che erano state chiuse e sono state riaperte sapete da quando sono state improntate queste cose dal giugno 2020 quindi loro speravano ecco perché i 7 TSO nel 2020 e i 9 TSO nel 2021 loro speravano che si toglievano di torno i matti cioè coloro i quali non sono all'interno del recinto esatto vi ricordate come venivano considerati coloro i quali erano fuori i matti quindi volevano considerarci tani e ritrovarsi invece davanti individui consapevoli che addirittura stanno parlando con la legge che stanno dicendo siamo in dittatura è stata tutta la dittatura non lo sappiamo fatecelo sapere perché se obbligo doversi comportare in quel modo visto che la Costituzione in quanto democrazia la libertà di scelta allora ce lo dichiarate e uno prende le misure oltre che le distanze sono due anni anche un anno capiste che bisogna fare i bacini avanti tutti i telegiornali su tutte le televisioni ma la verità non lo dicono parlano però la verità non lo dicono allora uno quando ho cominciato che ti voleva un pensiero unico allora lei pensa con la sua testa e io la no ma il pensiero unico che dirà con la scuola se lei pari i bacini perché hanno detto sempre così poi i nove giorni di attesa la gente l'ha ammassata tanta i primi tempi forse no ma dopo non potevano anche curare il testamento no e continuano 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 ma la stiamo divisi uno dall'altro perché tu non puoi dire il tuo parere perché sei matto e non puoi discutere con nessuno noi non dobbiamo parlare con l'ideologia noi non dobbiamo parlare con il sentito dire noi non dobbiamo fare il loro stesso errore il loro errore è stato il loro errore visto da colui che sa ok il loro errore è stato fare gossip perché noi in Italia siamo stati abituati a fare gossip io ora vi do un esempio palese palese in realtà noi dobbiamo dove vanno ma soprattutto oggi dobbiamo parlare a differenza loro con i dati di fatto dobbiamo essere coerenti dobbiamo parlare con la logica non dobbiamo vaneggiare loro vaneggiano noi no noi parliamo con i dati di fatto con i documenti e i documenti ci sono e il problema non è il loro è il nostro perché loro hanno sempre scritto tutto ve lo dice una ve lo dice una che i documenti sono retti quindi non si può dire loro hanno detto loro hanno fatto loro hanno verbalizzato quello il gossip differenziamolo così hanno verbalizzato il gossip ma hanno scritto la verità quindi il problema non è loro il problema è il nostro loro sapevano che chi avrebbe letto chi e allora si sarebbe arrivo si sarebbe alimentato il gossip e vi è accaduto così perché se invece di soprattutto dal inizio invece di non è vero non lo vedi non c'è da niente non lo vedi ma è sensuale invece di parlare con le biologie con i propri pensieri le sensazioni il sensazionalismo fa parlo dei gossip eh anziché parlare così anche noi avremmo preso i documenti avremmo detto scusami mi dici dove è l'emergenza sanitaria scusami mi dici dove è prevista scusami era da dicembre che sapevano tutto di che stiamo parlando ok allora la mia forza dal primo momento è stata parlare con le carte le carte sono inattaccate soprattutto quelle di scioglie perché tu dici va bene hai preso le carte da paperino.it ok il problema è che le carte sono governo istituto superiore della sanità OMS ministero della salute protezione civile e di andare e di andare e di andare tutti i siti ufficiali quindi quando tu dimostri con le carte ufficiali la vita a un certo punto la gente è sanzita e tu gli fai le ideologi personali non mi interessano quando avrete a contropattere con i documenti allora le tue ci confrontate la gente abbassa la testa chiude la bocca che è già chiusa dalla schede si gira e fa via vi do io ho avuto sempre questo la sottoscritta ha avuto uno studio su piazza aperto sempre senza dispositivi la gente la gente è talmente coerciuta e l'hanno convinta che non ti ascolta da d'entrata c'erano documenti sul bancone è uscita senza maschera fai baduffo subito io no 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 poi a dire a uno io non ho fatto i vaccini non li farò mai non li farò mai ma se tu parli con un vaccinato siamo noi quelli che non sono vaccinati questa energia la dovete abbandonare state continuando ad alimentare il sistema che loro vogliono vado a parlare se ci parlo e poi se ci parlo ma chi vi ha detto che dovete andarci a parlare ci volete andare a parlare voi e rispeccate tutto quello che viene ecco allora non è richiesto è richiesto che vi vestite della responsabilità del cambiamento e lo mettete in pratica perché colui che non sta agendo oggi è complice non è che si chiama risvegliato colui che sta e allora è più bravo eh no eh signori non funziona così allora colui che sa deve anche mettere in atto il cambiamento senza aspettare gli altri deve essere il cambiamento perché non è più il tempo della massa perché la massa applicherà il progetto o crediamo che adattiamo al progetto qualcuno crede che riusciamo a fare il progetto voglio sperare di no perché se no è meglio di fare il vaccino uno di qua uno di qua quindi ti giuro che finisco così qua quindi in realtà quello che dobbiamo fare almeno di noi è creare da un'altra parte creare le due strane quella della massa che ormai dentro e applicherà il progetto le smart city sono già l'attivo il riconoscimento facciale fa parte delle smart city quindi tu andrai in piazza a Bologna e sarai registrato però colui che è fuori da quel concetto che è stato coerente nel momento in cui di propinare qualcosa del suo riconoscimento facciale lui può dire di chi è questa gatta chi è che si è permesso di rilevargli la mia impronta facciale denuncia ma lo può dire chi ha fatto un certo tipo di percorso chi non lo ha fatto deve stare zitta abbassare la testa e continuare a vivere quella strada prego il merito a che cosa loro e noi è sempre detto loro e noi non ho visto loro è un'identità un'ordine delle persone perché dipende da che dove l'ho detto capito perché lo posso aver detto nel momento in cui parlavo delle istituzioni lo posso aver detto nel momento in cui parlavo della differenza delle persone dell'individuo dell'essere umano quindi dipende da che che concetto hai preso in merito a questo in merito a questo è tutti coloro i quali hanno scelto di però se ti parlo mi devi guardare no perché è educazione perché se no capito parlo con altri almeno io sono titolata a questi per educazione mi fanno una domanda riguardo degli occhi che mi ha fatto la donna in merito a questo concetto per loro si intende tutti coloro i quali hanno scelto di rimanere in quel racconto di gossip quindi stanno dando per scontato che sia tutto vero a partire dalla pandemia a concludersi all'identità digitale cioè al obbligo dello spin del pin del boom in merito a questo sì dipende dipende quel non vuole che cos'è per te perché non vuole qualche essere ma basta che non mi vaccino poi tutto il resto non mi pesa quindi anche tu interpeggioro allora coloro i quali non sanno io vi sono non sanno di che cosa si parla e io vi permetto di dire ogni volta che coloro i quali arrivano alla scelta dovresero per rispetto di tutti non mi viene o o rimanere nell'ascolto perdonami ti ho aspettato perdonami ti ho aspettato fammi ridere il concetto e poi dopo ti faccio di parlare di solito si fa così tra persone educate uno finisce di parlare e parla lato quando io intervengo perché intervengo vuol dire che vengo no? e sono dentro e mi spiego in una riunione in un luogo se non so niente di quello che sta accadendo in quel luogo rimango in ascolto poi se è qualcosa che mi risuona torno a casa e mi informo capisco comprendo e la volta successiva se dovesse esserci un altro incontro di quel genere non solo intervengo non solo intervengo ma metterò anche dell'uno perché sono nella conoscenza se invece non sono nella conoscenza e sono venuto a passare l'aria fermo mi accomodo e rimango nell'ascolto punto perché se poi non mi risuono non torno nemmeno a casa di informare rimango lì anche perché nel momento in cui io intervengo disproposito sono loro cioè sto facendo la stessa cosa credendo di essere risvegliato ma il concetto è come quello del loro di quello lì ecco per quale motivo il risvegliato non è nessuno non esiste si è classificato questo termine giusto per alimentare ancora tutta la differenza ma non so se potete chiedersi il punto le etichette non dobbiamo accettare quelle di qualunque tipo anche quelle che possono sembrare belle pulite no? noi non abbiamo bisogno di etichette quindi risvegliate mi spiegate chi è visto che poco fa vi ho detto che colui che sa se non applica è come se non sapesse non era molto importante sicuramente però il modo importante è che si mi metto in valo tante cose e faccio il gioco e ho fatto anche i consumi faccio difficoltà a collegare il discorso dei diritti umani universali il fatto di avere la patente di avere la patente scegliamo ma in ascolto scegliamo ovviamente ho fatto il tuo stesso pentolore però in questo momento lì per esempio se noi dobbiamo utilizzare la patente o i sposi eccetera eccetera il seguito di da loro in quel momento lì loro è sempre indicato con i loro avanti o loro è limpio o la notte che deve lasciare la patente il medico deve fare l'esame eccetera come ti ho detto prima dipende dal concetto quindi probabilmente in quel caso mi riferivo all'istituzione all'organo quando ho sottolineato ricordiamo la differenza tra organo e autorità quindi probabilmente in quel caso era riferito all'istituzione scusa posso intervenire come no volevo parlare prima degli articoli della costituzione che per scarsa ho detto il 54 dopo ho sentito che c'è il diritto alla ribellione ti risulta che nell'articolo il 54 si è stato tolto una parte che era due bis che riguardava proprio questo perché l'ho sentita adesso non so nelle mie pregine scienze e ho sentito che l'articolo 54 è stato tolto anche l'articolo 941 sono stati modificati ma a me non interessa soprattutto nel momento in cui scegliamo di applicare la verità possiamo applicare la verità soltanto nel momento in cui per coerenza abbiamo protocollato alle autorità di polizia ricordiamo il concetto che le autorità sono soltanto noi in un territorio il presidente del territorio e le autorità di polizia a proposito del gossip che prima vi ho detto vi dimostro un gossip che abbiamo vissuto a dicembre quando c'è stato il gossip sul figliuolo in realtà era per spostare l'attenzione su ciò che stavano facendo in modo tale che qualcuno non si condannasse come no sta amendo tutte le forze di polizia allora il gossip impegna figliuolo chi è figliuolo cosa fa figliuolo figliuolo non c'è più chiaro quindi è passato così ciò che è stata l'azione e ci siamo ricordati soltanto che c'è stato un figliuolo e secondo uno pennuto vero uno dell'esercito hanno messo tutti sotto a lui ci ricordiamo questo peccato che in realtà loro hanno operato secondo legge perché erano fuori legge quindi a che mi dice che non stanno facendo l'impiego della legge che stanno in pratica in costituzionalità ridetevi in faccia se siete nella conoscenza se no alimentate il gossip alimentate l'energia fasulla e cioè che siamo in dittatura sì no perché la dittatura ce la stanno vestendo personalmente ognuno di noi allora responsabilità personal io l'ho fatto io ho fatto applicare la dittatura no e infatti ho applicato la costituzione ho applicato i diritti ma in questi due anni se mi ero venite a chiedermi vi dico ma a me mi sono ne ha toccato a me mi sono ne ha applicato a me assolutamente ok ma dobbiamo essere nella conoscenza l'articolo 1 della legge sulla pubblica sicurezza parla chiaro l'autorità di polizia è la sicurezza degli individui sul territorio dei soggetti sul territorio non avevamo abbastanza polizia non c'era abbastanza polizia per proteggere i soggetti sul territorio ecco per quale motivo hanno unito tutte le forze che sono tutte forze di polizia ad oggi quindi si sono messi nella legge e sono al servizio del popolo sovrano o al servizio del sovrano del popolo sono al servizio dell'individuo che applica i propri diritti sono al servizio dell'individuo che applica la propria sovranità sono al servizio dell'individuo che applica il proprio riconoscimento è riconosciuto dal quando si dice l'agenzia dell'entrata è riconosciuta da altro c'è questo insano limite chi è lo Stato quindi signori dov'è il problema non è mica scritto è riconosciuto dal governo è riconosciuto dallo Stato lo Stato siamo noi ognuno di noi ecco l'importanza dell'uno l'uno fa lo Stato non tutti insieme facciamo lo Stato l'uno fa lo Stato ognuno di noi è uno Stato ecco per quale motivo faccio una piccola assonanza ecco per quale motivo lo status di Apolle si chiama status di Apolle però quella è roba troppo alta quella non è per tutti però si può essere anche Stato su cittadinanza italiana attenzione a ciò che vi sto dicendo un conto è essere cittadini italiani e un conto è essere cittadino su nazionalità italiana che cosa intende questa differenza di espressione che io non sono proprietà di nessuno non sono cittadino italiano e quindi mi devo rappresentare con un documento che mi lascia quel lente che io riconosco ma sono cittadino persona fine a se stessa su perché mi trovo in quel momento nazionalità nazionalità convenzione etichettatura fatta da accordi che non mi appartengono quindi posso tutt'ora più riconoscere che c'è qualcosa ma mi rimango ben saccato e quindi non mi devo far riconoscere da niente nessuno perché sono in grado di riconoscermi da solo infatti la costituzione e i diritti umani demandano la responsabilità ad ogni individuo infatti quali sono gli strumenti con i quali ogni individuo applica la sua essenza quindi è in ogni forma giuridica pratica morale materiale autodichiarazione autocertificazione autenticazione foto scritture private esistono ancora sono riconosciute in pieno dall'ostruzione legalmente valide non hanno bisogno di tibetri di nessuno ecco perché si chiamano auto auto certificazioni auto certificazioni auto certificazioni foto perché altrimenti se viene apposto timbro e firma di qualche organo non è più auto ma è certificazione dichiarazione carta carta di identità carta le scritture private che finano foto certo che ci sono anche nella forma di là sono quelle scritture che vengono determinate dai vari enti notario geometra architetto commercialista avvocato poi vengono voto verità civile istituti di istruzione articolo 117 della costituzione una fra le tante è molto lunga l'attività 17 spero che lo leggeremo ce la faremo obbligo dell'istruzione virgola istruzione che si dico ma guarda un po' c'è una mia camicetta ciò che vuol dire che mi posso scrivere da solo perché in realtà sarebbe previsto tutto ciò che fai accesso senza pagamento o richiesta non devi chiedere niente a nessuno fai accesso punto è pubblico sarebbe pubblico pubblico oggi c'è qualcosa in pubblico no ah sì una cosa la biblioteca la biblioteca la biblioteca la lontina un'altra volta aspetta però perché c'è per prima ne almeno cerco di essere ma era sul 117 solo un termine perché ho appena citato nel 117 e hai detto che riguarda l'istruzione ma io non ho provato che riguarda l'istruzione devi andare giù in fondo c'è a un certo punto c'è tutto quel seto più grande ah sì sì ecco salva la funglia delle istituzioni scolastiche e con l'istruzione delle formazioni professionali professioni di certi ok ho visto volevi dire anche tu qualcosa sì tu stai dicendo una cosa molto importante perché cioè stai dicendo che al di là della politica cioè il cittadino che però non è più il cittadino italiano esiste cioè si può essere cittadini a fatto che si faccia in tutte queste si 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 abbiano queste prese di coscienza esatto assolutamente sì è a questo che vi sto l'evoluzione dei nostri incontri sta portando a questo perché anche loro sono evoluti e si stanno mettendo in riga, cioè vi ricordate quando qualcuno mi ha chiesto, padre ma hanno detto che vogliono parlare della politica, che la vogliono cancellare, io che cosa gli dissi? Signori non è possibile, sono 60 anni e ci stanno provando, non possono annullare la ratificazione di una legge, una legge internazionale, perché la legge sulla polidia è di New York 1954 e non si può svegliarsi domani e direi, no, non si può, quindi gli dissi, l'unica cosa che possono fare è che per buona condotta, come coccarda, come merito, come diritto daranno la cittadinanza italiana a tutti? Fatta vedere come una cosa positiva, tu che hai raggiunto il diciottesimo anno, hai diritto alla cittadinanza italiana, cosa non riesci a dire? Sei nostro, pregato, pregato, chi ha pregato? Tutti, tutti, perché ha un complimento del diciottesimo anno, sono tutti e coloro i quali sono sotto i diciotto anni, voi pensate che un genitore dichiaro di avere un figlio minorale senza sapere che il figlio fa? Cerco di tenerlo con me e quindi non te la dichiaro. Bene, due giorni fa, visto che io sto cercando, l'universo sta volendo che io non lega le viaggette, ma io ho capito perché. Quindi sono indietro di quindici giorni, l'incerca. Non sto ascoltando solamente l'ora, non le ascoltavo prima furiamoci ora. E due giorni fa qualcuno mi ha chiamato e mi ha detto, Vale, sempre perché ti sbagli, come ti sei sbagliato a due anni, stanno parlando di dare la cittadinanza italiana a tutti. Dare la cittadinanza italiana a tutti. Automaticamente, sei sul suolo italiano o cittadinanza italiana? A coloro uguali sono sul suolo italiano. Quindi chi non è fuori da questo? È dentro. Guarda caso. Quindi signori, ecco l'evoluzione. L'evoluzione dei nostri incontri è andato su questo concetto di riprendersi la propria individualità nel di rimanere cittadino su questa terra, nel momento in cui poi è accaduto che nel verbo, mi ricordate che anche qui avevo parlato, voi avreste una grande possibilità storica, no? Nell'occasione che mi sono incontrata con alcuni del verbo e parlavo con loro della modalità di applicazione di questa forza giuridica, di questa forza storica, di questa forza di memoria. E mi si è aperto un attimo il mondo, no? Nel senso ho studiato affinché questo concetto potesse estendersi a tutti. Perché mi sono detta, aspetta un attimo la ventina, ma perché solo indipendente e soltanto indipendente? Con quel concetto che tu stai proponendo a coloro i quali sono su territorio delito, puoi estenderlo a tutti, a quel punto è su territorio nazionale italiano. Ecco l'evoluzione del concetto. Questo è ciò che li sta destabilizzando, questo è il motivo per il quale stanno portando avanti il terrorismo psicologico sulla quarantena natale. Era sottoscritta di aver parlato della quarantena natale che si stavano preparando insieme alla guerra due anni fa. Perché la sottoscritta vi aveva detto, guardate signori, sempre che ho con me la mano, stanno mettendo gazzette dove dichiarano calamità natale comune per comune. E questa storia non è un bene. Perché la legge costituzionale prevede questo. Quando tutti i comuni avranno dichiarato calamità naturale, data un decreto che lo dichiara a livello nazionale, ed è finita. Signori, tutti i comuni hanno una calamità naturale. Però, anche qui vi fregheremo, lunedì mattina, lunedì mattina non di pomeriggio, vediamo, vi ritroverete su Equivaliamo un esposto da protocollare e inviare alle prefetture e ai comuni e ai presidenti di regioni. Sarà un esposto che prenderà in esame tutte le gazzette che hanno dichiarato calamità naturale nei vari comuni, sottolineando che hanno fatto riferimento a elementi passati passati, anche di tre anni fa, nel 2017, nel 2019. E questo non si può fare. Non si può dichiarare calamità naturale oggi, prendendo un esame, un evento di tre anni fa. Non si può. E quindi li beccheremo anche questa volta. Li bloccheremo anche questa volta. Li fregheremo anche questa volta. Voi volete scommettere che sparisce tutto d'un tratto la gran naturale? E gli è rimasta solo lo stato di guerra, eh? Peccato che lo stato di guerra devono far partire le due vigie per strada. E attenzione, perché le due vigie per strada le prevedono per fine agosto. Quando rientro dalle vacanze, perché il problema è sempre nostro, siamo andati a fare le vacanze, perché abbiamo bisogno. Perché i due anni sono pesanti e abbiamo bisogno anche due due giorni, fare gli diamo un po' d'aria. Signori, state tranquilli, che loro sanno tutto, eh? Quindi, hanno detto, aspetta, aspetta un po', passa mia benzina. Quest'io l'ha prenotata con le vacanze. Quando hanno prenotato le vacanze, tu prendi la mia benzina. Quando hanno visto le prenotazioni, stelle! E la benzina è a minimo due. Due c. E' arrivata. Quindi, stanno aspettando al barco che le persone ritornano, sono senza soldi. Gli autotrasportatori non avranno i soldi e faranno gli scioperi. E quindi non arrivano le merci. Ma già si sta verificando. Eh, lo so, sto sentendo. Non arrivano le vacanze prime sugli scaffali. Quindi, cerchiamo, nella consapevolezza, di muoverci in tempo. Cioè, applichiamo tutto quello che burocraticamente ci permette di creare un'energia di contrasto a quell'energia negativa. Perché io ci credo? Anche perché l'unica loro applicazione, purtroppo, come potete ben vedere, è la forza. Gli è rimasta solo quello. Hanno perso tutto. Quindi gli è rimasta la forza. Noi non dobbiamo rispondere con la forza. Noi dobbiamo rispondere energeticamente. Con l'unica energia che ha sempre vinto. Magari un po' più avanti. Magari con lentezza. Ma l'unica energia che ha sempre vinto sul mare. Qual è? L'amore. Sì. Sì. L'unica. Ha sempre vinto l'amore. E non direi che ce la raccontiamo. L'amore ha vinto anche con uno. Il mondo l'hanno cambiato l'uno. Non l'hanno cambiato e tanti. Non l'ha cambiato la massa. Quindi non c'è bisogno che ci sia che tanti, troppi. E noi dobbiamo cercare di applicare la stessa cosa. Abbiamo poco tempo? Il tempo lo stiamo creando. Lo sapete da quant'è che stanno scontrando di applicare la forza? Da gennaio. Da gennaio 2022. Per chi legge i documenti, la protezione civile era in allerta tra il 5 e il 15 gennaio 2022 per la guerra. Doveva partire la guerra. Ma non quella finca. Quella vea. Sapete perché? Perché a dicembre del 2021 doveva partire la guerriglia urbana. Vi ricordate quando furono propinati 21 giorni? I famosi 21 giorni? Non comprate, non fate, non girate. E io vi dissi signori le cose organizzate non sono mai buone. Fuzzano. Per fortuna non hanno abecchito. Perché se ci fossero stati in quei 21 giorni tutto si sarebbe bloccato lì. Perché il blocco delle merci, il blocco degli adulti agli ascoltatori, il blocco delle barrile prime sarebbe partito lì. Con la scusa del blocco dei mezzi, di energia. Eh, lasciamo solo. Lasciamo solo. Andiamo avanti? Avete domande? Considerazioni personali? Passiamo sotto la botte. Continuiamo a lei. Articolo 1? Articolo 1? Articolo 1? Aspetta, scusa. Scusa. Non mi distraete. Non mi distraete. Non appena ti arriva me lo dici? Non appena ti arriva fai così e subito ti faccio. Grazie. Articolo 1? Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in unità e diritti. Ripetitolo, ripetitolo. Ripetitolo, ripetitolo. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in unità e diritti. Avete capito? È l'articolo 1? È l'articolo 1? Tutti! No! Chi è rosso, chi è giallo, chi è volide, chi è cittadino italiano. No! Lo stato di calamità che cosa significa? Si viene purtroppo in una condizione che non è di pesa da noi e cioè il blocco della Costituzione è di legge marziale quindi viene applicato l'esercito su strada perché in virtù della sicurezza dell'individuo è previsto anche l'arresto domiciliare quindi tutto quello che si è vissuto nei due anni teoricamente praticamente può essere applicato per legge e qui quando io ci parlo quando capita un'altra malattia che viene chiesto dal comune relativo al fatto che questo evento sia passato e che quel comune chiede uno stato di calamità può essere corredato mi ha dato di lei mi ha dato di lei mi ha dato ma non mi ha ritocato la bomba energetica io sono qui qui siamo tra i 15 e i 20 18 e 25 io c'ho 5 anni di 4 e 2 di 4 anzi ora sto pure nel verso quindi anche ma non è la legge marziale quella Valentina la legge marziale che prevede la possibilità di prestito di non lo stato di calamità sono legate legge e stato di calamità lo stato di calamità naturale e lo stato di guerra prevedono l'applicazione della legge marziale perché viene bloccata la costituzione ed interviene un'altra legge la legge marziale vogliamo fare due minuti di pausa mentre queste belle signorine passano a roma a roma in lungo tempo l'invento 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 l'ultima porta le donne servono due statule una con la cava con l'aspetto primordiale e l'altra invece con la l'unica la prima aveva scritto giustizia e l'altra l'ex tutto è stato giustizia nella mia testa avevamo tre cose che si tenevano tutte assieme invece poi la profonda no visto che l'unice è la libertà di fare qualcosa che è lecito oppure la libertà di non fare qualcosa che è illecito e invece la next è l'obbligo di fare qualcosa che non è lecito oppure di non fare qualcosa che è lecito e questo va in mente il giorno che è successo qua da noi l'uno che voleva con la moto ha fatto un incidente in mezzo alla campagna sta signora che era su una casa lì vicino che non c'era nessuno e corsa giù e bastava soccorsa e a sta poverita cosa è successo che siccome era in quarantena si ha fatto un altro tanto una burta e anche roba che ne ha basta per rispondere e allora questi discorsi per il falso per dire lo just cioè il diritto tiene prima della legge anche una domanda secondo me il diritto tiene prima della legge perché tanti mi dicono ma è la legge se no se tutti fanno questo però se una legge fa contro il diritto non più il paro del normale non rispettata quindi esco soprattutto soprattutto perché si sta parlando di non leggi fra l'altro ora lo chiariamo ora prendiamoci due minuti va bene? si vuole alzare la macchina però diamoci un tempo 7.38 7.30 7.35 dentro posso già passare due ore e mezza e mezza non farei male anche le tue non farei male anche non farei male non farei male ma non farei male Grazie a tutti. 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 Siamo tutti d'accordo che la legge è una sola? Oggi vogliamo continuare a far profinare dagli avvocati che c'è la legge primaria, secondaria, terziaria, quartaria, quintaria e sestralia. E poi arriverà anche la settima, la legge è una soltanto. A chi mi chiede, chi mi chiede, chi mi chiede, no? La legge è tutta. Allora, voi gli dite, ma non mi è sembrato di aver letto nell'aula di tribunale, andate sempre per logica. Non mi è sembrato di aver letto nell'aula di tribunale. Il giudice sa che il giudice sa che il giudice sa che la legge è una, ma la applica solo se il primis chi gli è davanti applica quella legge. Se colui che gli è davanti prende in considerazione le altre leggi, lui non può fare nient'altro che interpretare. Vi risuona questo termine? Può essere interpretato in una legge? Saremmo lo scatafascio. Ma è vero, ci siamo lo scatafascio. Scusate, scusate. Ogni tanto ritorno con il mentello e dico, ma cacchio, ma noi siamo lo scatafascio. La prima cosa che fa il giudice, chi chiede, è lei, se non parla? No, la prima cosa che fa il giudice è il signor Pincopalla. Ok? Perché il giudice legge le memorie prima. Quindi se già le memorie sono di merda, state registrando? Sì. Dopo dovete... Dopo dovete passare la registrazione che la devo mettere. sul canale, eh? Sennò se la pigliano con me. Allora, quando uno dice come ti chiami, Bertondo diceva sono gli altri che mi chiamano. Non ci fermiamo mai. Attenzione che... Il nome mi chiama. È sbagliato. Il mio nome può sapere cosa? La finizione giudica. Mi è venuto al bolletto, non è al bolletto. Mi è venuto al bolletto, non è al bolletto. Non è al bolletto, non è al bolletto. Non è al bolletto. Allora, quella roba là non mi appartiene. Quindi mi chiede la posizia di non la metterla in campo in questa stanza. Quella roba là appartiene a altri racconti, perché i racconti non ce li raccontano soltanto il governo, ma ce li raccontano anche i nostri simili che hanno applicato in maniera distorta qualcosa che era chiaro. perché la legge 881 non c'è bisogno di parlare di altro, è chiara? Ma la legge 881 è fatta di otto parti, non di una. Quindi non c'è bisogno che io mi presenti con un documento che qualcun altro mi ha fatto, perché se no rientro di nuovo nel circuito. Quindi demonizzo il governo, ma entro in quattro recito. Quindi la legge che riconosce il concetto di autodeterminazione esiste e deve essere applicata con coerenza. mentre in questi anni gli autodeterminati hanno distorto quel concetto, come anche con questi termini qui. Davanti al giudice queste cagate qui non vanno fatte, perché altrimenti il giudice si mette di traverso. Mentre invece, siccome esiste sul vocabolario, esiste nella legge, esiste in termini persona, noi esistiamo perché ci presentiamo con un documento, quindi siamo in vita, non siamo morti, non abbiamo bisogno di fare un certificato di vita, ok? È tutta una serie di cagate dietro. Quindi quei racconti vi chiedo la cortesia, prima di farvene dogma, studiate. Studiate perché se noi fossimo nei concetti delle bolle papà non saremmo più a parlare, se noi fossimo nel concetto della legge della miradiata non saremmo più a parlare, quindi per favore lo chiedi. Per favore. Studiate. No, ma è solo per capire, io è la prima volta che vengo qua, voglio capire se vengo identificare con una funzione giuridica. Ma chi l'ha detto che è in funzione giuridica? Che cosa è? che mi dice si identifichi meccalo, mi dico, un pezzo di carta che mi hanno fatto loro No? Infatti lo stiamo guessesando cioè io sono andato a riprendermi il mio abito di nascita ma pare di mia mamma di mia mamma di mia papà è quando sei venuto è nella parte 1 di questa ma è tutta la strada e la so solo Raloto la raccontata nella maniera stagliata non mi dovete raccontare le cagate le persone legge sulla pubblica sicurezza come Tony allora te lo dico a te stai dicendo delle cagate legge sulla pubblica sicurezza legge della niente punto sono chiamata primo legge sulla pubblica sicurezza sei obbligato ad identificarti sul territorio che ti piaccia o no? chiaro? ma mi identifico ma non con una funzione che mi costruisci tu sistema di merda questo te lo dico io questo sistema di merda mi ha tolto il papà e la mamma ma nel lato di nascita ho scoperto adesso 70 anni io te lo dico io ogni volta che parlo lo parlo per me ma tu padre tu non è ci sono ancora 70 anni che non ha né il papà e né la mamma indicati nell'arco di nascita il padre è scritto solo il dichiarante è compasso da dove? dal capo inizio non lo so è scritto così non è che ne lo sono inventato no l'ho diventato e guarda questo e quindi io l'ho rifatto e ho scritto che è il mio papà che è la mia mamma e non mi riconosco nella funzione giuridica che hanno creato loro perché quel paglianzo là quel paglianzo là quando lo riconosce si è dimenticato maschera da cosa? di anche maschera così le hai detti tutti ma in quel caso posso dire una cosa posso dire una cosa noi qui siamo venuti per fare un'altra cosa queste cose le abbiamo lette tutti le abbiamo sedute tutti qui sono venuti perché Valentina c'era un mese d'accordo un mese fa di studiare la costituzione e allora siccome però ci tengo a questo perché arriva magari un messaggio distorto le persone hanno no quell'attimo di dubbio allora spieghiamone le cose però spieghiamone in una maniera corretta perché basta studiare e anziché rimanere su un raffonto che qualcun altro ci ha fatto nello studio ci rendiamo conto che esistono la legge sulla pubblica sicurezza e la legge dei nanami secondo la legge sulla pubblica sicurezza ogni individuo sul territorio per la sicurezza del territorio deve identificarsi è un omido altrimenti va a vivere sulla montagna lontano da tutti perché per la sicurezza degli altri c'è l'autorità di polizia che è preposta con la conoscenza di coloro i quali sono su quel territorio è preposta a proteggere tutti gli individui ecco perché deve conosce gli individui la legge della nave si dichiara come fino a quando il padre e la madre non dichiarano il bambino nato non vengono riconosciuti riconosciuti come i genitori ma vengono dichiarati tutori coloro i quali riconoscono il bambino alla nascita sono l'ostetica e l'ufficiale giudiziaria della labbra e entrambi riconoscono in quei due soggetti i tutori di quel bambino la legge non ammette ignoranza sono i genitori che devono essere al corrente di quella dichiarazione che devono fare per riconoscersi i genitori punto vogliamo demonizzare i nostri genitori perché non si sono preoccupati di questo della conoscenza no anzi vogliamo addirittura disconoscere quel cognome che con tanto amore ci ha dato quel genitore anche perché ci mettiamo in contrapposizione energetica con noi stessi con il nostro io col nostro passato con la nostra nascita perché mentre io avvallo il racconto di qualche coglione non riconoscendo quel nome e quel cognome in realtà energeticamente io sto allontanando da me il mio io il mio passato il mio essere dobbiamo stare molto attenti alla coerenza perché io non mi posso elevare ad individuo umano a essere umano urlare che ho scoperto che i miei genitori non sono miei e poi dire che non riconosco la maschera ma di che cosa stiamo parlando quando in realtà basta semplicemente non riconoscere quel documento identificativo che chiediamo sottolineo all'ente ah sta lo ricetto non è più mio e me ne creo uno mio mi auto identifico perché siccome per la legge sulla pubblica sicurezza io sono obbligato ad identificarmi mi creo un mio documento identificativo dove auto io autenticherò perché l'autenticazione firma abbiamo creduto debba essere contro firmata da qualcun altro è un paradosso allora invece di sbattere i pugni al petto come di scimpanzee usiamo il cervello e mettiamo in pratica la conoscenza e la consapevolezza con criterio per non da scimpanzee perché altrimenti continuiamo a fare l'errore dei nostri genitori mentre invece noi li dobbiamo accogliere con amore ringraziarli di quel cognome e nome che ci hanno dato nella conoscenza della loro posizione dobbiamo autenticare la nostra persona nella maniera adeguata perché io conosco la storia perché ho studiato so che in realtà devo apporre il mio nome il cognome non il mio cognome il nome non per quelle cagate che qualcuno mi ha raccontato ma perché il diritto romano aveva due scritti uno che erano le scritture private tra i soggetti e i soggetti venivano trascritti tutto in minuscolo e un'altra scrittura che era per il diritto commerciale quindi lo scambio di merci quindi anche l'altra cagata di schiavi ridimensioniamola mettiamola collochiamola al punto giusto per la conoscenza della storia quando l'uomo è stato oggetto di scambio merci perché è stato usato come merce il nome e cognome è stato scritto in maiuscolo dove venivano i seri merci la merce era l'uomo che era stato scritto perché il nome e cognome in quella stessa scrittura degli altri due uomini era in piccolo quindi non è che tutti sono diventati merce non è che tutti sono diventati schiavi coloro i quali sono stato oggetto di quella procedura sono stati scritti lì in quel punto dove venivano riconosciute le merci con la modalità per la quale venivano riconosciute le merci c'è tutto in grande poi il governo ha detto interessante questa storia perché non ce la continuiamo a portare avanti anche perché così potremo in futuro creare su questa merce anche perché per il diritto commerciale noi siamo merce economica altro che morte signori siamo belli e vivi quando lasciamo infatti appogono il nostro cognome nome e nome in grande proprio perché sin da piccoli si hanno merce economica di scan perché anziché di comprare pannolini potremmo usare questi in fascia anziché anziché comprare il carrozzino si potrebbe costruire con la paglia con legno ma siccome noi compriamo ecco per quale motivo siamo a scambio esatto noi accettiamo senza dare consenso accettiamo quel vestito di merce perché automaticamente ci viene dato quel documento che ci identifica come legge sulla pubblica sicurezza vuole peccato che ci siamo dimenticati che prima di quel documento ce n'è un altro che stavano facendo credere fosse sparito che non esistesse più qual è? qual è? quel bel codice di scale vecchio che guarda caso si autoproduce ma guarda un po' che caso guarda caso non si cade sarà sicuramente un caso guarda caso non si paga non si paga non si paga non si paga non è sotto pagamento è quello il documento identificativo che viene rilasciato per ogni soggetto dal governo è quello che dobbiamo tenere stretto è quello dobbiamo riconoscere nel momento in cui creiamo il nostro documento identificativo per quale motivo dobbiamo crearlo? perché quel codice fiscale è un insieme di lettere in utili che all'interno prevede il nome il cognome la roba di nascita e il luogo e l'azionale su nazionalità però potrebbe essere di lei no? chi è che attesta che vale una fosco è lei o io o lei è una cartellina con delle lettere ecco per quale motivo deve essere corredato di foto foto autenticata da chi? è una cartellina i due documenti devono essere insieme quello del codice fiscale perché è quel documento che c'è stato riconosciuto da quel governo che ci piaccia o non ci piaccia è sul territorio o vogliamo credere di fare l'obbiscente o vogliamo credere che noi abbatteremo tutti non siamo nessuno quello che possiamo essere è siamo tutti e due sullo stesso territorio perfetto ci dobbiamo bambino chiaro? questo dobbiamo dire all'altra parte al moderno noi dobbiamo dire bellino questo è di tutte e due che vogliamo fare? questo è il concetto non bo 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 perché non serve a niente serve a niente perché poi dopo avendo una forza una forza mi vengono a prendere mi vengono a prendere mi tolgono la roba perché sanno come fare mentre invece se io sono nella conoscenza e nella consapevolezza mi muoverò in poerenza con la logica sarò io ad applicare la legge sarò io a dire a quell'ente allora intanto mi fai parlare con i soggetti perché non c'è nessuno quindi addirittura noi abbiamo il potere di rigettare un documento non firmato noi abbiamo il potere di disconoscere un documento che ci viene propinato dall'ente perché noi parliamo con gli individui umani lo possiamo fare? sì lo dobbiamo fare ma se siamo coerenti non è che io con la carta di identità vado a dirgli voglio parlare con il soggetto perché io sono un essere umano cazzo sei sei la carta di identità sei ma un bel codice azione quando ci è stato detto? a marzo a marzo ci è stato detto che sei codice codice iso ministero della salute codice iso quindi coloro i quali non stanno attenti non avranno più parole in merito è un codice che viene apposto alle aziende quindi non è che chiacchieriamo tanto è un dato di fatto allora purtroppo la maggior parte di voi hanno utilizzato credendo la storia che il codice fiscale fosse la testa sanitaria o c'è qualcuno che non ha mai usato la testa sanitaria la sottoscritta la sottoscritta non l'aveva mai usato la sottoscritta ha ricusato il benico due anni fa perché il codice fiscale è ancora vivo con la conversione in legge dell'identità digitale sarebbe sparita il codice fiscale non esisteva più ecco per quale motivo abbiamo bloccato l'ultimo passaggio eh ma voi dovete ringraziare chi sta facendo le cose però quindi anziché comportarli in certo modo dovreste intanto dire grazie a coloro i quali stanno mettendoci la faccia e stanno bloccando qualcosa il problema è che tutti se vogliono uscirne devono metterci la faccia non è che possiamo aspettare che gli altri facciano per tutti perché quella strada ormai è stata ben illuminata è stata ben illuminata quindi ci hanno messo i pali bellini tutte le recensioni tutti i mattoncini rossi stanno tutta asfaltata quella strada ormai è lì e la stanno calpestando perché tutto applicato le aziende sono in identità digitale le aziende sono tutte in identità digitale e a proposito l'identità digitale ma la carta d'identità è cos'è? non volete l'identità digitale non avete voluto la carta d'identità è la stessa causa non è che sia molto lontano quella si chiama carta d'identità questa si chiama digitale identità è il passaggio è l'evoluzione quindi se vogliamo essere coerenti noi dobbiamo ricettare la carta d'identità e con essa dobbiamo ricettare la patente e con essa dobbiamo ricettare la lettera di carità e con essa dobbiamo ricettare il passaporto e come viaggiamo e come si fa viaggiamo è grave che voi cominciate a fare così è gravissimo perché colui che ora subito non ha capito è vero io ho sempre chiesto il permesso per girare quindi non sono mai stato libero e mi lamentò oggi che non mi danno la mia libertà cazzarola è sempre venduta sì sì voi avete venduto la vostra libertà sempre ma quale legge vi obbliga al passaporto per favore me la portate l'individuo l'individuo è libero l'individuo è libero di girare sul territorio senza chiedere permesso a nessuno l'unico obbligo è di identificarsi sempre sempre lo stesso e se si vuole uscire dal territorio ma il territorio attenzione fermi tutti scusami qual è il territorio e te lo chiedo a te perché io ce l'ho definito benissimo io ce l'ho definito benissimo ce lo chiamo quindi dicalo di qual è il territorio ma non è vero non è vero non è vero signore e allora perché studiamo la terra forse non ci rendiamo conto che è sempre demandata a noi la logica e l'ha conto a qualcun altro quindi la differenza la fai colui che io ero ma la prima di ogni scuola perché non mi facevo propinarla qualunque perché volevo che mi spiegassero per quale motivo io dovevo dire quello che dicevano loro non mi tornava ma se questo è così perché devo dire così e io ero Fusco e sei sempre l'unica che deve sapere delle cose che è bellissimo queste frasi sei sempre l'unica e ti la dice lunga sei sempre l'unica che deve sapere le cose ah no? non devo sapere? non mi puoi dire che il territorio è il territorio nazionale è il territorio nazionale tu mi puoi dire che il territorio cioè la terra territorio terra all'interno delle convenzioni che per una serie di nazioni politiche quindi comincio a far capire a colui che edico che purtroppo c'è una grande differenza fra ciò che è politico e ciò che è la polis e che le convenzioni politiche non fanno del bene perché partono con il mantello della della giustizia dell'uguaglianza dei diritti e poi invece nascondono sotto quel mantello tutt'altro quindi io devo educare colui che sta conoscendo alla differenza dei termini ma il problema oggi abbiamo capito che non sta in colui che ci dice ma in noi ecco per quale motivo io risolto tutte le volte a non credere in nessuno se non in voi stessi però i tecnici dell'articolo 1 tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali dignità e dignità siamo dotati di ragioni e di coscienza e devono agire in un diverso di altri in spirito di fraternità cosa? non è possibile cosa ha detto questo articolo siamo dotati di ragioni e così nooo non è possibile secondo me non è bene hai capito che la gente questo non ha capito? come voglio un po' come io bravo vedete perché sono loro la nostra forza sono loro perché nella loro semplicità arrivano dove le nostre le nostre piramidi le nostre costruzioni mentali ci hanno fatto dimenticare le basi noi abbiamo costruito sulla sabbia quindi cerchiamo di dare a loro le fondamenta e cominciamo a rompere tutte quelle costruzioni anche noi e cominciare dalle fondamenta anche noi tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in unità e si sono datati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza secondo te quale legge in base a questo articolo può dirti che cosa far una volta? bravo perché di sopra di te non c'è nessuno e il tuo bene lo puoi volere solo tu e questo concetto tu lo devi pretendere perché se qualcosa non ti sta sulla pelle non c'è niente nessuno che ti posso dire a fartelo stare non ve lo dimenticate mai questo partite sempre da questo una domanda per tutte le persone che proprio per questo articolo ci rende tutti uguali ma quelle persone che hanno una visione un po' più aperta ancora che puntano di colismo e dicono no io per me voglio di più e passo sopra te come lo ha? lo ha in questo sistema sono da capito che devi usare l'umore per raccontarti con gli altri quando tutti viaggono così come si fa? credo non devo creare sulla strada dell'altro devo creare sulla terra che è di tutti non devo venirti a dire scusami posso aprire un'attività commerciale? perché poi non mi devo la notare quindi secondo questo articolo secondo i miei diritti io non devo chiedere il permesso a nessuno oppure crediamo che io non possa applicare il diritto commerciale se non faccio domanda al temone basta è questa la signora diceva che non tutti siamo in onore no vi prego allora l'abbiamo detto prima questo concetto io ho già dato la formula finale perché il concetto è nel momento in cui noi pensiamo già al male non possiamo stare nel nuovo perché siete già voi che non siete in onore state già pensando a quello che l'altro può fare su di voi io creo ciò che sono non è che mi posso nascondere dietro al fatto no no ma io ho detto che quell'altro potrebbe no l'hai detto tu perché sta dentro di te grazie non passo di nulla attimo il tuo scusate la voce senza distinzione alcuna per ragioni di razza colore sesso di lingua di religione di opinione politica o di altro genere di origine nazionale o sociale di ripietà di nascita o di altra condizione nessuna distinzione sarà nella volta stabilita sulla base dello sviluppo politico giuridico o internazionale del paese del territorio per cui una persona appartiene sia indipendentemente o sottoposto di amministrazione fiduciaria con una forma che è successo a qualsiasi limitazione di sovranità ripeti la prima parte brava ad ogni individuo spero tutti i diritti e tutte le libertà annunciate nella presente interazione senza distinzione alcuna eh potente la botta il problema è che l'individuo che deve essere deve avere due palle così perché essere ha un peso eh essere vuol dire studiare essere vuol dire affidarsi a se stesso essere vuol dire prendersi le responsabilità essere vuol dire non delegare niente a nessuno quindi è un peso e colui che si può permettere questo deve essere prima di permettersi questo perché lo può fare soltanto può applicarlo soltanto e può pretendere che venga applicato soltanto perché è non ha bisogno che qualcuno gli dica sei capito cosa sto facendo riflettere dito avete visto che non è previsto nessuna differenza scusa puoi rileggere l'ultima parte da metà in gioco nessuna nessuna distinzione sarà molto stabilita sulla base dello statuto politico giuridico internazionale del paese o del territorio in cui una persona partita semplicemente o sottoposto all'amministrazione fiduciaria o un uomo o soggetto per sospitazione di insolvenire che vuol dire? presumo di avermi avuto ma spiegalo perché non l'abbiamo capito cazzarola niente può giustificare la discriminazione niente figuriamoci un'emergenza per risposta ma chi può applicare questo è colui che è coerente è colui che ha studiato e anziché rispondere è tutto il costituzionale e poi gli presenta l'atto che ha abballato la produzione di quella formazione di società è incoerente con se stesso allora io ti presento quello che ti dico scusa chi è che mi sta chiedendo obbligando richiedendo qualcosa in veste di cosa visto che io non ti ho mai riconosciuto e se ti ho riconosciuto allora quando ora mi sono accorto dell'inganno che mi hai fatto ho cominciato a studiare e mi sono reso conto che mi hai ingannato dalla nascita adesso dove c'è adesso sono io mi sono identificato e ora sono io quindi ora ci attendiamo tutti a questo e io gli dico va a fare la Costituzione non c'è il mio bisogno di dare a questo perché in realtà la Costituzione è il motivo per il quale loro stanno stavano cominciando a cambiarla loro stavano cominciando a cambiare la Costituzione perché i diritti umani faranno riferimento alla legge la legge è la legge la legge di ogni Stato per l'Italia come per altri è la Costituzione l'hanno chiamata Costituzione per altri Stati è la legge ecco per quale motivo la stavano prendendo chi è che l'ha scritta nella Costituzione a lui ma attenzione sì chi l'ha scritta lei lo dovrebbe sapere più di me no annaccia la miseria facciamo una brutta figura non sopra di questi signori eh eh a scuola noi ci siamo andati chi l'ha scritta quando quando è stata scritta dall'Istituzione intanto che hanno come la Costituzione la studiata la seconda la seconda la seconda la seconda la seconda la seconda no rimandata più o meno più o meno tutti tutti gli iscritti diritti umani diritti internazionali Costituzione o legge per gli altri paesi legge sulla propria sicurezza legge più o meno chi prima chi dopo si aggirano tutti intorno alla seconda guerra mondiale chi prima chi dopo poi ci sono leggi decreti poi ci sono leggi decreti i reggi decreti come quello della legge sulla pubblica sicurezza 1931 addirittura ok quindi chi prima chi dopo siamo tutti intorno a quel periodo cioè dovremmo essere noi gli insegnanti ecco per quale motivo gli anziani devono essere riportati al loro posto gli anziani noi siamo negativi anziani gli anziani cioè i sacci devono essere riportati al centro del paese ma chi gli ha scritto il padre il padre il padre lei il suo avo il mio avo il suo avo il suo avo capito persone così che invece di fare la piramide hanno detto in virtù di quello che abbiamo vissuto passato in virtù di quello che stiamo vivendo presente in virtù della creazione del futuro proviamo a buttare giù qualcosa che non sono punizioni ma sono concetti educativi questo vuole sentire dire sì ok no è spavata il altro più bene ma scusa ma in base a cosa è stata scritta la prostituzione se a quel tempo ha fatto il referendum che c'era la monarchia e a quanto pare ha rivenito la monarchia e hanno fatto passare invece l'italia come una repubblica poi è stata scritta la prostituzione in base a cosa se non sono state venate vediamo se ci arriviamo dai vediamo se con un'energia vediamo se con un'energia generale ci arriviamo vediamo c'è stato un momento nel quale con la venuta del governo Mussolini il re d'italia che allora era ancora colui che dirigeva con una forma di repubblica monarfica ha di cancro a quel punto c'è stata la richiesta di un referendum di cittadini italiani hanno chiesto una repubblica per i quali partigiani eccetera poi una volta che il referendum è andato positivo per le istituzioni di una repubblica si sono ritrovati e come ha chiesto il signore hanno fatto questi documenti per la sostituzione per cui la repubblica è stata richiesta la repubblica non mi ha chiesto noi io dico noi italiani in questo caso attraverso un referendum qualcun altro ha altre conoscenze? qualcun altro ha altre conoscenze? allora dico la mia allora dico la mia via allora io invece dico che qualche secolo fa si è sempre vissuti ciclicamente ciò che stiamo vivendo oggi e a quel tempo è successo ciò che sta succedendo oggi quindi ci sono state le due realtà parallele diciamo che è cominciato un po' prima sono circa 300 anni che stanno portando avanti questa roba attenzione a quello che vi sto dicendo per le mie conoscenze per i miei studi per ciò che io ho ascoltato da chi c'è stato a quei tempi e ha vissuto in realtà i papi costituenti della Costituzione non sono nient'altro che stati quelli che erano fuori fuori dalla massa quindi ciò che noi stiamo cercando di applicare e cioè una realtà nuova una vita nuova un mondo nuovo nella conoscenza e nella consapevolezza è quello che è stato fatto anche secoli fa millenni fa anni fa perché è la storia che si ripete è la vita che si ripete è il ciclo che si ripete la verità non ce l'ha nessuno in noi ma o siete vissuti in quegli anni? ah scusate magari qualcuno l'ha vissuto e quindi era faceva fede e ci ho vissuto no? io ci sono stato e posso dire che è successo così invece questo dobbiamo fare noi quello che dovrebbero farvi le scuole invece di dare un titolo di studio un libro di testo un titolo di libro di testo dovrebbero dire ragazzi ragazzi in quest'anno noi studieremo questo ognuno di voi vada in libreria vada in biblioteca e cerchi il suo testo e ci confronteremo quello che è appena accaduto dove purtroppo lui dalla sua conoscenza io dalla mia e ci fermiamo quando invece ci dovrebbe essere io sono questo io sono questo io sono questo e che cosa succede? che di libero arbitrio ognuno fa la sua storia perché poi sarà il presente e il futuro di se stesso perché io vivo il mio presente e il mio futuro forse non posso dire il mio passato allora il mio passato me lo prendo non mi prendo ciò che mi ha detto lui non mi prendo ciò che so io mi sarebbe piaciuto prendermelo no? anche da qualcun altro e poi mi faccio il mio il mio passato questo dovrebbe essere l'istruzione perché l'istruzione è personale poi si mette in campo ognuno a proprio modo e di chi è la responsabilità di fare accesso al servizio o alla merce di quell'altro individuo e ripeto perché state tutti così di chi è la responsabilità di fare accesso al servizio o alla merce di quell'altro individuo che me la propone o perché c'è un ente che ha riconosciuto che quell'individuo può vendere può dare il servizio e allora per questo gli devo dare il credito no? perché oggi vediamo su questo non so se avete accorto però poi ci lamentiamo che quell'erte comanda la richiesta è fatta da colui che vuole dare il servizio o vendere peccato che non è previsto dalla legge o meglio è previsto ma è previsto anche l'altra strada tu vuoi creare una piramide? createla vuoi creare dei documenti che certificano qualcosa? fanno ma non è che io non ci voglio stare lì dentro devo essere demonizzato perché la costituzione mi permette della libertà di scelta quindi mi permette di esercitare la mia attitudine la volete chiamare professore? va bene il mio servizio di dare la mia merce senza richiedere il permesso a nessuno per il diritto commerciale che è sempre parte della costituzione addirittura si va al diritto romano sempre secondo quello scritto io sono obbligato a dover mantenere scritto dichiarare per iscritto lo scambio che avviene tra me e l'altro soggetto perché? perché posso fare attività illecita l'unico obbligo per diritto commerciale è di non commettere reato di attività illecita di chi è che dichiara l'attività illecita se ognuno di noi l'organo di polizia è la produzione che si tratta di un certo regolamento ma quello è? no è l'unico è l'unico devo mantenere copia scrittura privata dello scambio che è avvenuto tra me e l'altro soggetto identifica che la merce che viene scambiata è illecita o illecita se ognuno di onore può non lo capire mi sembra che l'unico potrebbe avere un'attività senza che venga dichiarata e fino a qua ci siamo se io aiuto questo particolare io posso vendere patate cipolle cannabis che queste sono prodotti illeciti o meno esatto devo stare attento ad amore o devo fare a un uomo no forse non sono stata chiara ok allora io non devo correre nel reato di attività illecita cioè vuol dire produrre uno scambio non certificato punto che cos'è lo scambio come avviene lo scambio in cosa si scambia non appartiene all'illecito l'illecito lo produco nel momento in cui proviamo a dirla in una maniera più spicciola nascondo è più chiaro così? no 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 cioè dal momento che io voglio dire lo scambio lo faccio di nascosto è un illecito ma se invece io scrivo che ho scambiato con te ma è illecito ok giusto per capire se ho fatto tra l'illecito tra l'illecito tra l'illecito tra l'illecito tra l'illecito che avevano trovato milioni di tavolette proprio sui scambi in Babilonia perché là più migliaia di anni fa il senso era questo cioè nelle tavolette ce l'hanno scritto solo mi scambi non mi importa ciò che facciamo io e te sempre per la liberità lo vogliamo leggere l'articolo 2? perché forse ce lo stanno dicendo lo vuoi leggere? sempre per l'articolo 2 in virtù dell'articolo 2 che si ha letto e di cui ti avremmo dovuto fare nostro il concetto è proprio quello ciò che facciamo io e te nessuno può metterci bocca ma qui non mi faccio soltamente ma qui negli scambi steroidi calmi speranno bisogna in virtù oh per l'interesse un'attre riadirio io e io allora allora partiamo Cosa sono gli stereotipi? Aspettate, andiamo a vedere, guardate che questo concetto serve anche per... Allora, cosa sono gli stereotipi? Come diciamo che non aumenta una certa prestazione fisica. Chi l'ha saputo? Non lo so. Di tutto. Chi sono i medici? Ma va bene. Cosa dire? O di questi ragazzi, o dei nostri ragazzi, vuole fare il medico, ma si riforma in maniera indipendente con qualcuno che lo sostiene e funziona. Perfetto? Non avrà mai né un diploma né una laurea riconosciuta dal sistema. Però esce a maturare delle conoscenze. che vuole mettere in capo con delle persone. Si stipula, come dici te, un accordo privato e questa persona però dice di non essere qualita o di non avere avuto un tolto. che cosa succede a quel punto? Potrebbe essere benissimo, quel poveretto che si è fatto un altro tanto, dire essere indipendente di attività illecita, perché quell'altro giustamente dice... Attività illecita. Attività illecita. Se c'è stato la scrittura privata e l'accordo. Assolutamente, non avete ancora compreso il concetto di attività illecita. E quindi non avete ancora compreso il concetto di responsabilità. Ma nessuno ti impedisce che tu stipuli una scrittura privata con un altro e che quell'altro invece non abbia la stessa responsabilità che è illecita e ti si ritocca contro? O no? Lo chiedo a te, in che modo? E... E... Ma no, ma no. Ti denuncia. Cioè, ti chiede personalmente di non aver avuto il servizio per il quale hai stato scritto questa scrittura, perché dice di non essere soddisfatto, e in conseguenza dice... tu non hai avuto in tutto questo scrittura. Considerazioni personali. Andremo davanti al giudice, come due soggetti simboli, responsabili. Tu porterai le tue ragioni, io porterò le mie ragioni. Ma quale giudice? Quello del sistema? Il giudice, che oggi non è più quello, però comunque giudice, è in realtà un poliziotto o un carabiniere che ha fatto il suo percorso nella polizia. E quindi arriva al suo termine, che in base all'esperienza acquisita, è demandato poi ad essere giudice. Il giudice, in realtà, non fa altro che applicare la legge. La legge non è punitiva, ma porta alla responsabilità educativa degli individui. Quindi il giudice farà in modo di applicare la legge. Perché non avete letto le leggi? Al giudice viene demandata la decisione personale laddove non riesce ad applicare l'educazione sociale. Perché il giudice non può essere il giudicante. Perché non è previsto che l'essere umano giudichi un altro essere umano. Non è previsto. Perché vogliamo far applicare la legge successiva, certo. Infatti si va ad interpretazione, certo. Infatti si va a scatafascio, certo. Infatti c'è una sentenza in un modo e una sentenza in un altro, certo. Infatti dipende se l'avvocato è buono o non buono, certo. Infatti dipende se è pagato o non è pagato, certo. Infatti dipende se sei cittadino italiano o se sei rifugiato politico, certo. E allora che cosa succede? Dando un po' questo. Succede che si va contro. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base di uno statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene sia indipendente o sottoposta da amministrazione fiduciaria o non autonomo o soggetto a qualsiasi ripidazione di sovravità. Si va contro? Purtroppo sono concetti che non mi riescono ad entrare perché voi siete i primi ad essere collusi. Mi dispiace dirvelo ma a me è così chiara questa roba. Purtroppo non è chiara a tutti ed è difficile farvele entrate perché siete i primi giudicanti. La dovete smettere di giudicare. Vi elargete tutti ai dotti. State più bassi. Rimanete laggiù perché nell'universo non siete niente. Siete un puntino piccolino che se volete emanate luce. Se volete fate energia. Se no rimanete di nulla. Invece voi volete... Di luce riflessa però. Capito? Credo che sia un atto di produzione. Credo che piuttosto, siccome io sono stata impostata in un certo modo scolastico, mi è difficile discostarmi. Eh ma ragazzi ma non è... Ragazzi non è un problema mio, è un problema vostro. Sta roba qui ve la dovete andare a lavorare a casa. Questa roba qui ve la dovete andare a lavorare nello specchio con voi stessi. Non la dovete portare qui. Dovete fare un lavoro interiore. Qui va fortificato il concetto, l'educazione, la realtà dell'applicazione. Qui va fortificato questo. Non va messo nel mezzo il dubbio. Il mio problema personale, ma non può essere... Non può succedere perché se quell'altro mi vuole fottere. È un problema tuo, non è un problema mio. Io non lo prevedo che quell'altro mi vuole fottere. Capito? Io non ho il problema di dover andare dal giudice. Voi si? Io no. Perché? Perché so come comportarmi prima. Il giudice non mi interessa nemmeno. Voi già state lì? E allora tipo? Ma se state già lì? Vuol dire che avete costruito? Mi mettete al corrente di che cosa avete costruito sulla strada? Non è che vogliamo metterci... Non è che vogliamo andare davanti al giudice. Però per la struttura purtroppo. Propriamente errate di questo sistema. A me è stato insegnato che davanti al giudice di primo grado o al secondo grado. Ma anche i giudici dei tribunali italiani... Chi è il giudice di primo grado o al secondo grado? Sempre i giudici del sistema, tutto quello che vuoi. Però voglio dire, c'è una struttura... Chi è il giudice di primo grado e di secondo grado? I giudici di primo grado sono i giudici dei tribunali, i giudici di pace e questi sono i giudici di primo grado. Poi, voglio dire, se tu hai un'interpretazione... Ma che interpretazione? Il giudice è uno solo. Mi fa vedere gli diritti umani della Costituzione tutti questi gradi dove sono? Noi viviamo in questa realtà... Ah, non è un problema mio! Oh, ragazzi! Cerchiamo di mettere un attimo in chiaro le cose, eh! Allora, quando noi ci incontriamo ci dovrebbe essere un minimo anche perché in questo momento tu stai facendo l'errore di demandare a me la tua nonconoscenza. No, no, affatto! C'è sì! C'è sì! Poi se c'è qualcuno che mi dice... Allora, prima di mettere in canto dei concetti vuol dire che io me li sono andati a studiare. Se io ti sto dicendo che la legge è una sola, che non è previsto questo, quali sono i secondo grado, la legge secondaria non esiste, vuol dire che io mi sto prendendo la briga di fare certe cose perché ho studiato. Allora, tu non mi devi contrapporre con ci hanno detto, ci hanno insegnato, ci hanno... Non mi interessa! Perché tu hai delegato a qualcun altro e stai continuando a rimanere su quel qualcosa che è stato delegato. Io no! A me che tu mi continui a dire ci hanno, non mi interessa! Io ti dico, ma tu, chi hai letto? Perché io ho letto, io ho studiato, io rispondo per me. Ma ho capito perfettamente che tu parli per te, il problema è che poi io, perché devo parlare per me stessa, quando mi scontro con una realtà attuale, che è quella di una multa, di un signoramento, di un sequestro, di una citazione a giudizio... E' una cosa che vuole dire che se tu arrivi a queste situazioni che però tu le hai in mente... E' una legge perché vivono nella mia chiesa in realtà, non è che tu le vada cercate. Sì, ma ci arrivi perché la costruisci più questa realtà. Bravissima! E' una cosa che vuole. Quindi, lei ti fa fare di un'altra costruzione. Beh, allora da domani decido di... Trovemente i giorni che effettivamente seguimosi in una sequenza logica, perché se tu da domani decidi come... Una questione di alleggia, ma se tu, ad esempio, per dire solo una cosa... Non posso fare le tasse... Benissimo, è vero che non c'è nessuna legge per il cuore, però a te ti riferengono a chiedere... E se non le paghi, propriamente inizia anche un procedimento... Così dire... Beh, lei se lo so... Ragazzi, noi siamo in un mood che non usciamo, questi ragazzi non riescono a capire... Capite quali errori? Loro si intoltano da soli, però poi urlano fuori... Non fai bene, governo di merda... Come cazzo si chiama? Tutti i ministri, no? E di Osana... In realtà il problema è il loro... Anzi, no... Mi scusate... Cerchiamo di toglierla se nel giallo... Per cortesia... Ecco... Cioè noi dobbiamo crescere quando ci incontriamo... Ci impantagliamo perché il problema è dell'individuo... Signori, non funzioniamo così... Il nuovo mondo non è questo... Perché se no dobbiamo rimanere nel terzo... Ve lo chiedo per favore... Non dovete portare l'energia a colore quale hanno scelto di vedere oltre... Rimanete... Se vi piace sta roba... Ve la dovete prima aggiustare a casa vostra... Poi ci entrate... Perché dovete avere rispetto... Rispetto... O il rispetto lo devo avere io quando non mi devo mandare a fare il culo... Perché io sono antipatica... Sono irrispettosa... Sono troppo diretta... Che altro dicono di me? Io non ho mai detto... Vedi? Io che sa... Chiara, chiara... Non mi parla quella... Perché ti dice... Però... Ma dico se questa è una seduta di studio... È un problema... No, 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 no... No, no, no... È una seduta di studio dove? Dove? Dove tu sei da tutto... Dove voi... No, tu... Tu chi? Ah... Dove voi vi siete preoccupati... A casa vostra... Di studiare... Arriviamo qui... Ci confrontiamo... E cresciamo insieme... Non hai studiato? Non ho studiato... No! Perché se tu mi viene a dire... Non parlo le tasse... Domani mattina... Mi viene questo... Mi viene questo... Mi viene questo... Io ti rido addosso... Perché ti dico... E quindi io sono un aliena? No... Allora che cosa vuol dire? Che io ho studiato... Io ho messo in pratica i miei diritti... Cioè... Quando mi arriva quella roba là... Io so rispondere... Ma... È il problema di chi è... Io ho il tuo... Ma... E allora... Ma mi devi venire a mettere qui in campo... Le tue paure... Perché quelle sono le tue paure... E qui le paure... Non devono essere viste... Non perché mi interessa di te... Ma perché mi interessa di loro... Perché tu hai fatto il tuo percorso... Ed è un problema tuo... Adesso dove sei... Ma loro... Stanno alzando la testa... In un momento buio... E io non posso sputarvi addosso... Le vostre paure... Io... Cioè... Posso... 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 Aiutatevi... Mi prego... Ci mi conosce... Mi aiuti... Possiamo... È una proposta... Di risposta... Che faccio... Che non so se... Ha senso... O no... Me lo direi... Non lo direi... Vole... Si potrebbe... Rispondere... Alla signora... E questa risposta... La formula... Sulla base... Di quello che ho seguito... Oggi... Qua... Che c'è detto... Tante... C'è dato... Tante informazioni... Potremmo... Rispondere... Alla signora... Che dice... Sì... Ma io... Poi... Vivo... Di questa realtà... Dove... Se... Ha fatto l'esempio... Non parlo le tasse... Qualcuno... Può... Venire... E... Apprendere... Un procedimento... Giudiziale... Che non parlo le tasse... Potremmo... Rispondere... Eh... Se... Tu... Esci... Da questo... Sistema... Rigettando... I documenti... In modo... Che... Ricettando... I documenti... Non sei più soggetta... A tutte le leggi... Secondarie... Ai codici... Agli ordini... All'agenzia delle entrate... A tutte queste robe qui... Non sei più soggetta... A questo... Ma... Avendo ricettato... I documenti... Avendo... Creato... Un documento tuo... Di identità... Autodichiarato... Autocertificato... Tu sei... Diventi... Una persona... Che può... Rifarsi... Ai... Diritti... Umani... E... Alla Costituzione... Per cui... Tu puoi andare... Davanti a... Chiunque... E dire... No... Signori... Io... Le tasse... Non le pago... Sulla base... Di... 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 Della Costituzione... Per esempio... No... E posso... Farlo... Perché... Io... Ho... Ricettato... Tutto... Il sistema... In cui... Mi... Avevate... Intrapolato... E... Mi... Autodetermino... Mi... Autodichiaro... Mi... Autodichiaro... Autodichiaro... Mi... Autodichiaro... Mi... Assolutamente... Siete... Di... Grazie... Ma... Di risposta... Ne possiamo dare anche un'altra... Potremmo... In un altro... Incontro... Ecco... Ecco... Perché... Dovremmo... In ogni incontro... Tevarci... Senza bloccarci... Ecco... Per rispetto... Rimanere in ascolto... Laddove... Ci rendiamo conto... Responsabilmente... Di non essere... Pronti... E quindi... Impedire agli altri... Di andare avanti... Anche quello è rispetto... Eh... Perché questo è egoismo... Ecco... E non si può creare un nuovo mondo con l'egoismo... Perché io... Non sono pronta... Io... Ho le mie paure... Io... Ho le mie... Non conoscenze... E le metto... Le vomito... Nel mezzo... E poi... Tutti gli altri... Se ne devono prendere la responsabilità... Di darmi delle risposte... Non funziona così... Perché il nuovo mondo... Non è fatto di questo... Allora... La risposta... Potrebbe essere ancora un'altra... Perché tu sei più buona di merda... Sei stata un'altra... Cazza... Io che sono molto più rigida... Ho un'altra risposta... E dico... Probabilmente... Potremmo... Piuttosto... Dire... Io non sono pronta... Ragazzi... Perché effettivamente... Mi rendo conto... Però... Ve lo voglio esternare... Mi rendo conto... Che ho delle mie paure... I miei limiti... Delle... Re... Inecedenze... Che non mi permettono... Di fare quel gizzo in più... Vi posso chiedere... Per favore... Io oggi... Rimango in aspetto... Domani... Comincio a studiare... La prossima volta... Possiamo intavolare... Questo problema... E allora... Io andrò a studiare... Ognuno di noi... Può portare poi... La prossima incontro... Come ci si comporta... Nel momento in cui arriva... Una multa... Un verbale... E allora... Ognuno che cosa metterà in campo... La propria conoscenza... Il proprio studio... La propria esperienza... Allora... Proverò io che le dirò... Guarda... Che non si chiama... Un verbale di accertamento... Arriverà un altro... È vero... Ho letto... Che il verbale di accertamento... È vero... Arriverà un altro... Sì... Tra l'altro... Il verbale di accertamento... C'è la possibilità di scondere... Entro 60 giorni... Quello è crescita... Chiaro? Quello è il nuovo mondo... Quella è la società... Quella è la creazione... Non dove... Tu... In maniera... Egoistica... Vomiti qualcosa... E pretendi... Con una giustificazione... Ci hanno... Ci hanno... No... Stai buttando... La colpa a qualcun altro... Quando la colpa è tua... Ti sei risvegliata... Hai capito l'inganno? Hai sì... Hai sì... Hai sì... Se ci rimani con i piedi dentro... Non puoi non buttarlo a me... Il tuo problema... Perché... Io... Ci sono uscita... Ho preso le cammine... E non è che sono andata... Da lui... Da lei... Ho detto... Oh... Però... Ci hanno detto questo... Ci hanno detto questo... Noi... E che loro... Eh... Non è mica colpa nostra... Sono 40 anni... Che ci hanno detto... No... Io non sono andata a rompere... Ne parla a nessuno... Mi sono messa lì... E ho cominciato a studiare... Ho fatto esperienza... Sulla mia pelle... Quindi... Quando mi è stato portato... In verbali di accertamento... Dopo che... Le forze dell'ordine... Sanno che io gli avviso di ingiocenza... Non mi credo... Quindi... La sottoscritta... Dopo che ha studiato... Che c'è... Un accordo... Del 2015... Fra... Il governo... E le poste italiane... Ha messo una pratica... Che l'avviso di ingiocenza... Non esiste... Non ha avuto bisogno... Che arrivi... L'avvocato di turno... A dire che non è fiero... Che è lo stesso avvocato... Sto facendo un po' di polemica... Non lo so... Arrivare ora... Non ho aspettato... L'avvocato di turno... Che mi venisse a dire... Che è lo stesso avvocato... Che mi ha detto... Che andavo a mettere le cose... Nel cassetto... Vero? Non ho aspettato... Quell'avvocato lì... Ciao ragazzi... Ciao... Io... Ho studiato... Non ho ritirato... Gli avviso di ingiocenza... Ho risposto io... Al giudice... Quando mi ci sono trovata... Perché... L'avvocato della controvata... Diceva... Noi abbiamo avvisato... Non abbiamo avvisato... La signora... E io... Ho detto... Al giudice... Mi perdono... La visione di ingiocenza... Non ha più valore... Dal 2015... Nel 2017... L'ho fatto... Dal 2015... Non ha più valore... Perché c'è l'accordo... Fra poste italiane... E il governo... Le cassette... Sono state appostate esterne... È lì che ho spesso... Di prendere gli avvocati... E il giudice... Mi ha detto... Sì... La signora ha ragione... Quindi... L'esperienza mia personale... Non mi interessa... L'avvocato di turno... Che cosa dica... Ok... Io ho la mia esperienza... Perché non mi metto a fare... I battibecchi con gli avvocati... Perché non mi metto a fare... I battibecchi... Con i professionisti del settore... Che non si vogliono confrontare... Non mi interessa... Non è che mi metto a fare... Io faccio la mia strada... Ma perché sono stata io la prima... La mia esperienza... Io... I verbali di accertamento... Anche su... Eccesso di velocità... Di 89 km orati... Con ritiro immediato della patente... Le ho bloccate... Perché ho denunciato... Chi... Aveva posto firma... Sotto il verbale di accertamento... Perché un verbale di accertamento... Prevede un'indagine... Quindi... Io... Ho il diritto... Di difendermi... Quindi... Non devo avere paura... Che mi arriva... La chiusura... Cosa... 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 Sono 10 anni... Che non pago le tasse... E chi mi ha aggiunto? È dal 2020... Che non pago le tasse... E chi mi è venuta aggiunta? Allora... Allora... Non è una vostra paura... Che potete vomitare qui... Se è la vostra incapacità... Dovete risolvervele a casa... Dovete studiare... Qui... Potete venire soltanto a dire... Allora... Guarda... Ho trovato questo... Che si contrappone... Perché lo vedo in Italia... E lo leggiamo insieme... Con me... Dovete venire a fare questo... Non... Ci hanno detto... Ci hanno cresciuto... Ci hanno dichiarato... Ci hanno insegnato... No... Non me ne frega niente... In questa roba... Perché... Ci ha preso... 25 minuti... Questa roba... E non lo vuoi chiamare... Egoismo personale... Cosa... Viene un senso di colpa... Se magari... Me la comando... Ma è un modo... Ma è un modo... Perché quando si colpevolizza... Ciala... 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 Lo sapete... Lo sapete... Lo sapete... Lo sapete che siamo... Lo specchio degli altri... Noi? Lo sapete che siamo... Lo specchio degli altri... Noi? Sì... Lo sapete che a meno verifica niente... Di quello che arriva a voi? Perché quando voi dite le cose... Io non è che vengo a dire... Sei un bastardo... Perché come me l'hai detto... Ora mi impicco... Perché mi hai fatto vedere il senso di colpa... No? Tu... Hai la responsabilità di come me l'hai detto... Io ho la responsabilità di come lo ricepisco... Quindi tu devi essere... Nella tua forma e nelle tue modalità... Non perché ti rapporti a me... Devi stare attento a come mi dici le cose... Chiaro? Oppure vogliamo limitare la libertà personale di persone... Ah... Però mi devo battere il tetto... Libertà... D'espressione... Oh... Allora... Libertà d'espressione... Io li esprimo come voglio... Non ti piace non venire più? Non ti... Non ti confronti più con me... Non è un problema... Cioè... Non è che io ti sono venuta a prendere a casa... E ti ho detto... Che vuoi confrontarti con me? Anche no? Non ti piace? Anch'io che non mi piace... Non c'ho a che fare... Libertà di scelta... È bellissimo! Libertà di scelta... Libertà di scelta... Io con te... Mi stai sul cazzo... Non ci parlo... Con te... Ti voglio un bene enorme... E ci parlerò... Con te... Anche se... Quando parte... Mi stai sul cazzo... Ci voglio qualcosa... Lo sapete? È così... Funziona così... Ma scelto... Quello fa parte dell'essere umano... Fa parte del... Della... La comprensione... Dell'amore... No? Perché parliamo di amore... Però poi diciamo... Però... Sei stato... No? Poi il riverente... Chi cazzo sei tu per dire io... Come sono stato? Nessuno! Perché con la stessa... Il riverente... Mi stai dicendo che... Il riverente... Uguale! Allora... Io sono io... Così come sono... Non ti piaccio? Peccato! Nascevo... Come nascevo? Nascevo... No perché... Il cioccolato... Ma non ti parlo proprio... Non piace... No? Siccome io adoro la cioccolata... La dicevo cioccolata... E invece mi hanno detto... Eh no Valentina... Perché la cioccolata... Non piace a tutti... Eh... Quindi... Nascevo in un modo... Che piacevo a tutti... Ma che grazie di quel signore... Qualcuno mi ha fatto così come sono... Per fortuna... Tu sei fatto così come sei... Tu sei fatto così come sei... O vogliamo appallare... L'unicità... Ah... Perché se no è l'unica che demonizziamo... C'erano... Sì... Adesso... Il mio non può essere... Un'unica tanto... In confondo di nessuno... Io parlo per me... Io... Oggi... Questo è tutto qua... Per puntosità... Non si può approfondire alcuni argomenti... Quando hai detto che... Si iniziava a leggere la Costituzione... Per me è stato... Bello... Per quali motivo? Perchè effettivamente... In tutti... In tutti... Non in tutti... Perché non sono riuscito ad ascoltarli... In tutti... Ma negli audio... Che ho ascoltato... Dici sempre le stesse cose... Quindi oggi... Abbiamo affrontato... Gli stessi argomenti... Che ho scritto negli audio... E dici sempre la stessa cosa... Non venite qua... Se non avete visto i video... Non venite qua... Se non avete ascoltato gli audio... Quindi... Sono tre ore che siamo qua... E cosa abbiamo affrontato? Niente... Quindi ripeto... Non è una tabla di confondi di nessuno... È la mia sola possibilizzazione... Che hai detto... Le stesse cose... Che dici negli audio... Quindi... Io sono qua... Questa sera... Oggi... E torno a casa... Con gli audio... E torno a casa... Grazie... Bravo... Bisognerebbe... Bisognerebbe... Scusate... Bisognerebbe... Che lei è andata in televisione... E forse... Di quelle... Di quelli due anni e mezzo... Che ti hanno fatto... Entrare nella testa... Perché... Allora... Le faccio sapere... Ciao... Le faccio sapere... Che... La televisione è venuta a chiamare... E... Allora... Mi sarebbe detto... Che mi doveva... Fare l'invito scritto... Del giorno... Che... Volevano... Io andassi... L'invito scritto... Non è meno... Eh... Ti voglio... Un po' che farò... Probabilmente... Perché stanno... Quegli anni fa... Non... Non dici... Quello che vogliono... Eh... Ma va... Ma va... Questa... Rimaniamo... Aspetta... 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 Allora... In realtà... Dovremmo andare... Ancora... No... Però la faccio più breve... Nessuno può stabilire che cosa sia giusto per l'altro... Io... Non posso stabilire... Quella... Qualcosa... Se ti può far male un vino... Perché altrimenti... Se io... Voglio dire questo a te... Non possiamo demonizzare chi oggi... Dice che per la sicurezza è giusto il vaccino... Quindi con quel principio... La responsabilità è tua... Tu ti informi... Di che cosa sono quei... Sostanze... Mezzi... Ritiene opportuno che tu... Ne possa fare un uso? Scelta tua... Tu... Ti prendi la responsabilità... Nel bene... Nel male... Non deve essere... Un'autorità di polizia... A decidere... Tu... Che cosa devi fare nella tua vita... Perché la sicurezza... Perché sicuramente qualcuno mi ha... Eh... Però... Abbiamo detto che l'articolo 1... Parla di sicurezza dell'individuo sul territorio... Vogliamo definire che cos'è la sicurezza? La polizia non deve fare nient'altro che permettere responsabilmente ad ognuno di vivere... Senza disturbare l'altro... La polizia deve intervenire nel momento in cui... L'uno sta disturbando l'altro... Basta... Quella è la sicurezza... Alla quale è demandata la polizia... No, non è così... È così... Non lo fanno perché noi non gliene abbiamo dato la possibilità... Se noi chiamiamo la polizia... Dicendogli... Che l'altro... Ha costruito... Ha messo fuori danni... Eh... Ha i tre cani... I quattro cani... Deci cani... Ma di che cosa stiamo parlando? No... No... E io mi sono trovato... Scusi eh... Perché... Dico quello che ho visto... Che cosa succede? Mentre i carattinieri sul bar... E vanno dentro... C'era un ragazzo seduto... L'unica... Non hanno detto buongiorno... Hanno detto... Puntando il dipito... A questo ragazzo... Che era seduto su un capello... Basta... Io per non incontrare discorsi... Perché un'altra volta sono andato sul bar... Hai qui il bar? No... Perché... Devo fare vedere qui il bar? Ce l'avevo... Perché io ho fatto il bar... E ne sono uscito... Perché la gente... E dopo... Che era come noi qua... Vai, vai, vai... Che è meglio... Come si fa a discutere con certe persone? Io... Io non... Non discuto... Che io ho un'idea... E gli altri... Non hanno un'altra... E questo... Carazzo... O sociologo... O sociologo... No... Il 90% delle persone... In certi casi anche il 97%... Tu verrà sempre... Tu verrà sempre... Perché... Tu verrà sempre... Tu verrà sempre... Questo è... Tu verrà sempre... Ma... Eh... La ragione hanno proprio la testa... O quella degli altri? No... Quando ciò... Un uomo... In sé... A livello psicologico... È per istinto... Eh... Come dire... È propenso... Seguire... Perché... Quindi... Non è una cosa... Come... Non è... Perché... Come si comporta... La gente... Come... Come puoi... Comportarti... In un modo... Non fai dialogo... Non discuti... Ma è meglio... Come diceva la signora... Ma... Poi... La pubblicità... O comunque... Successi... Devi accettare... Inizio... Escoli... In me... Io la serola... Soli... In futuro... E quindi... Mi sono... In questo... A me.... Molti amici... Ho tagliato... O comunque... Mi ne è tutto... Perché è una gesta manuale... Io mi sopportava... Allora.. Allora... Se tu hai diventato... Dicito la hurts... Del forno... Gli ammente... Allora... Mi sono mai fatta... Indipendere... Está insieme purely sul sale... che hanno diviso tutte le barriere, solo per loro hanno applicato la situazione attuale. Con l'autorità di polizia ci si ragioni. L'autorità di polizia applicano i loro doveri con coloro ai quali sono in riuscire. Sono in conoscenza loro? No. No, ripeto, le autorità di polizia applicano i loro doveri con coloro ai quali sono in conoscenza. Quattro giorni fa una persona a motorizzazione civile ha fatto non un passaggio di proprietà, ovviamente non ha riconosciuto il passaggio di proprietà, ma ha fatto un atto di vendita dopo quattro ore. dopo la destazione di due volanti, una calabiniere, una polizia. però, nella conoscenza, dopo quattro ore, ha applicato i suoi limiti e sono stati riconosciuti per l'atto di vendita, l'autentiliazione foto e il codice fiscale. Quindi, parliamo del nulla? Sì, sì, sì. Ok? Noi dobbiamo dire perché, ripeto, mi dispiace se ve la prendete sul personale, però a me, di voi, le chiacce non riferimento. A me interessa questi ragazzi, io spero che ci saranno sempre più ragazzi e io, quando siamo qui, mi sarebbe piaciuto che con la forza degli adulti noi avessimo dato a loro questo, queste conoscenze, questa forza, questa verità, questa giustizia, questo dovere e diritto di applicazione. Avremmo dovuto raccontare a loro tutte esperienze che gli dovevano confermare che la giustizia e la verità non c'è sempre. Non avremmo dovuto vomitar del dosso le nostre insicurezze, le nostre paure, le nostre incertezze, le nostre non conoscenze, le nostre non consapevolezze. Però anche lei, io le do ragione perché bisogna difendere se stessi, bisogna difendere se stessi, come dice lei. Però non possiamo essere tutti, come dice lei, che ragione è? Ma c'è gente che va a lavorare, 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 studiare va benissimo, difendere se stessi. Io sono imprenditrice ma prima di tutto sono una madre, sono una madre di due figli. Quindi di due figli adolescenti, quindi tutto ciò che sono certi dell'adolescenza, uno di 11 e uno di 15, ero una madre anche nel 2017 quando ho cominciato a studiare, ero con lei che sono oggi anche 40 anni fa, ma soprattutto in questi due anni, dove oltre ad essere una madre, oltre ad essere una madre da sola, oltre ad avere una casa in affitto, oltre ad avere uno studio in affitto, oltre ad essere un imprenditrice, oltre a fare la donna delle polizie, che non mi ha mostrato per me, la donna delle polizie, io ho anche scritto. Quindi lo viene a dire a te? Ha trovato un muro proprio. Come le giustificazioni, guardi, non me le vai da dire. Allora, piuttosto ci dobbiamo dire, ho voluto trovare il tempo? No. Perfetto, allora ho un problema mio. Chiaro? Allora, però, allora noi che siamo, io parlo per te, sono il già lo vecchio, per fortuna, e non voglio trovare, che abbiamo anche io due figli, e ho lavorato, penso tanto, ma non è così tanto, perché andava, andate bene, e abbiamo, siamo noi colpevoli allora, perché tutte, perché tutte queste leggi che hanno fatto, ingiuste o non ingiuste, siamo noi colpevoli. Io dico ancora giorno, io dico adesso, io dico adesso, ma nessuno fa niente, nel senso, io non dico a lei, neanche io non lo faccio, e nessuno lo fa, però, l'ho detto, ho detto, si vede le mani qui? No, 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 è lì il capo, no, poi diciamo, se no, dal minero si ammogliano, e l'inchipo, l'inchipo è lì, l'inchipo è lì, l'inchipo è il quale comincia a dire, nessuno lo fa, no? Si deve fermare, io che cosa ho fatto, io che cosa faccio, io che cosa farò domani, io, 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 no, tu che cosa hai fatto? Capito? No? No, 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 capito, capito. Siamo amministrati, li abbiamo presi noi politici. Articolo 3, diritto umano, cazzo, me l'avevo detto che non ci si faceva. Articolo 3, diritto umano. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà, legata alla sicurezza della propria persona. Che grazie, non ho detto. Mettete in alto nella vostra vita, ragazzi. Articolo 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in strato di schiavitù. Ripetete, ripetete. Ripetete, ripetete. Allora, nessun individuo potrà essere tenuto in strato di schiavitù o di schiavitù. La schiavitù e la tratta di schiavi saranno attivate sotto qualsiasi forno. Sotto qualsiasi forno. Quindi può essere schiavitù, secondo voi, obbligare al diritto al lavoro previo presentazione di certificazione di caratteristica? Può essere una dimostrazione di schiavitù quella? Avete visto com'è facile abbattere le consuetudini? Andare a ponte. Non c'è bisogno di disquisire sulla disposizione della comunità europea. Quanti di voi hanno fatto 6, 7, 3, 3, 7, 4, 5, 7, 3? Che vi ricordate? Il numero, vero? Che qua si fa per numeri. Però non vogliamo essere riconosciuti come numeri. Ma noi abbandiamo i numeri. Distananza cognitiva, allora, però vabbè, invece di andare a prendere le disposizioni della comunità europea, visto che noi non riconosciamo nemmeno la comunità europea, per coerenza, concetto dei diritti umani. Signor giudice, ma non si può prefuggere una possibilità di schiavitù nel momento in cui non viene applicato un diritto al lavoro previa presentazione di certificato sanitario, ma soprattutto, signor giudice, perché è valida un'altra certificazione del proprio stato di salute in questa fase, che non è valida la stessa autocertificazione del proprio stato di salute, quando sto malato a casa mentre sono a lavoro, e devo andare dal dottore del lavoro, visto? In un attimo, non ho bisogno delle levi successive, chiaro? Perché con la logica io ho risposto, io ho contrapposto i loro stessi documenti, perché forse mi è passato, mi è osservato questa cosa, ma l'autocertificazione dello stato di salute, ma non sarà mica l'autocertificazione. Non è che vale solo quando vogliono loro, se è un documento giuridicamente dato, e non so quando voglio e dico io, non quando me lo dice qualcun altro. Libertà. Non mi fa più male l'auto... No, io non l'ho firmata, perché... No, tipo dovete andare al supermercato. Mai, mai, perché ho detto, scusi, da quando in qua si può autocertificare lo stato di salute? Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudelle, inumano o per cadavere. Può ritenersi valido, tortura, un trattamento sanitario che deteniamo non opportuno per il nostro corpo? E com'è che c'è scritto? Nessuno... Potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudelle, umane o per cadavere. Certo, assolutamente sì. Chiedeva, vale la stessa cosa anche per le iniezioni? E lei giustamente diceva, anche per i tamponi? Qualsiasi, non a caso, per le operazioni... Guarda, guarda mi piace ora come fanno le stagioni. Per le operazioni bisogna sempre firmare. Fa come? Tengo da te, dottore. Tu mi dici, deve fare questa operazione perché altrimenti muore. E poi devo firmare io? E che cazzo vengono a fare io? Sarà mica perché non si piglia la responsabilità? E allora scusatemi un attimo, eh, a chi dà la valenza i certificati, a che cosa vuole servire questo certificato? A chi poco fa mi ha detto, ma scusa, ma allora io mi metto, poi vado dal giudice, se quello... sto parlando con te. Lo so. E allora, e allora, dov'è la logica? Io mi sto preoccupando di quella che sarebbe la realtà, la verità, la giustizia e la libertà quando non mi sono preoccupata di elaborare il concetto di logicità che sto vivendo da quarant'anni? Ma no, io mi sono... ho considerato come? Che non c'è logica in questa realtà. E allora devo andare a raccontare quello, non mi devo preoccupare di giustificare quell'altro. Quell'altro io non lo devo giustificare perché è una logica e il mio dovere è di applicarlo. Devo invece preoccuparmi del mio dovere di smontare quell'altro e di dire scusi, ma a che cosa serve il suo certificato? Se poi sono io che mi prenderò la responsabilità per rimanere il terzo. E' come la reazione, no? Uguale. E' tutto lo stesso concetto. Viaggia tutto su quella fila. Io mi prendo la responsabilità di tutto, però tu sei quello che mette tipo il firma. L'attività in Italia è anche la protesta, certo? Sì, non è obbligatorio. Non è assolutamente obbligatorio. Infatti loro sono obbligati a dire vuole sottoporsi e infatti firmi. Firmi che hai accettato. Come esame di sacro. loro devono avere un mal dato di un reato con il quale aprono l'indagine e poi possono farti tutto quello che vogliono. Ma perché hanno confermato che c'è un reato? Non una probabilità di reato. ecco perché non bisogna accettare nulla di quello che ci viene chiesto prima. La legge, la costituzione prevede e anche il diritto umano che tu prima accetti il reato e poi dopo metti tutto quello che c'è da fare. Ma prima devi accettare il reato. Ad esempio io mi piacerebbe andare a trovare una persona in ospedale però per entrare ti chiedono il Green Pass o il Dandone cioè e come faccio io di dire di no? Cioè io in nessun modo è un ente privato a casa sua fanno quello che vogliono. Cioè per andare a trovare una persona ti devi sottoprire quello che ti dicono loro altrimenti non fate accesso a quelle strutture. Finalmente vi hanno comunicato che sono un ente privato e che se volete accedere ai loro servizi dovete fare quello che vi dicono. Quindi vanno creati nuovi ospedali. E come portano l'esperienza? Vedi? Oppure ascoltate avevo mia mamma in ospedale a Vittorio Veneto non vaccinata quindi sono vaccinata ma non avevo l'impasse non potevo assolutamente entrare a trovarla. Allora io l'ho denunciato all'ospedale per sequestro di persone bravissima tutta una serie di denunce di... eh? Dopo un mese sono riuscita a vederla blindata i guanti perché ero chissà cosa ero però almeno l'ho vista e non vissuto no ma è riuscita a entrare sì sì certo dopo una denuncia con i passaggi la giudice però come sono tutte tali come hanno detto loro i pezzi i guanti i pezzi beh ho visto mia mamma ma non sono riuscita sì ma non passa brava e ho detto mi fanno vedere mia mamma ma questo è un sequestro delle persone ecco stava ma molto ma bellissimo dopo ho fatto quello che ho con il presidente di passaggi e potevo cercarmi ma l'anno scorso un mese sono sì sì ma però stai l'ordine già l'ospedale ma è il giorno andiamo avanti articolo articolo 6 ogni individuo ha diritto in ogni luogo al riconoscimento della sua personalità giuridica basta così semplice sì la legge la legge è semplice è chiara non vale non vale interpretazione la legge le rilego sì sì come ogni individuo ha diritto in ogni luogo al riconoscimento della sua personalità giuridica l'individuo giuridico colui che si identifica sul territorio automaticamente è una persona giuridica fisica e giuridica questo è il diritto che ci insegnano le medie però ce lo siamo scordati ecco per quale motivo non esiste tutto quel racconto la funzione giuridica tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto senza una discriminazione ad una uguale tutela da parte della legge tutti hanno diritto ad una uguale tutela contro ogni discriminazione che individuo e le presenti dichiarazioni come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione altro ecco lì davanti un individuo ha direitto ad una esistiva possibilità di il corso e competenti di un'altra fronte atti che vengono seguiti della fondamentale e di con che cosa avete capito da questa cosa c'è un particolare molto importante vengono 16 16 16 ogni individuo ha detto alcuna effettiva possibilità di il corso a competenti tribunali contro atti che gli o gli di fondamentali riconosciuti dalla costruzione che danno vengono dovremmo tutti evidenziare la possibilità della costruzione dovremmo tutti evidenziare riconosciuti dalla costruzione ma la sottoscritta l'ha fatto lo sa 65 persone costerebbero per cominciare domani mattina sì ma le dico che la sottoscritta l'ha fatto ecco per quale motivo le forze degli ordini non le rompono le balle perché il presidente è una persona che firma gli atti legislativi e il presidente della centrica lui fa esattamente quello che va a no 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 ma soprattutto basta andare sul sito governativo leggere come si elegge un presidente della repubblica e andare immediatamente a denunciare perché colui che è lì non ci deve essere colui che è lì non ci deve essere perché se leggete come si elegge e sono sette articoli riguardo al presidente della repubblica quella si 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 e io ho denunciato volevo che però soffermaste su un particolare questo articolo che abbiamo costituzione dalla luce effettiva prima le leggi proprio il primo pezzetto di diritto ogni dirivo ha diritto in posizione di piena uguaglianza non è 10 8 8 8 mi ha segnato l'unice e sa ok scusa ogni dirivo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali competenti tribunali di ricorso non ce n'è uno non esiste un tribunale mi ha detto qual è il tribunale quindi vuol dire che quindi posso raccontare 10 persone e formare un tribunale brava non esiste un tribunale unico esatto cioè la costituzione non contempla i diritti umani quelli sono i diritti umani attenzione è come che sono partita da quelli la prossima volta la prossima volta se siamo tutti preparati andremo sulla costituzione ma sono partita ma sono partita da quelli perché al di sopra della costituzione ci sono quelli lì e già quelli lì chiariscono tutto chiariscono tanto non c'è un tribunale non c'è il tribunale i tribunali quindi lo possiamo costituire in qualunque momento ma chi è che può costituire un tribunale chi è chi è chi è chi è l'essere brava ovviamente non chi si rappresenta dall'ente ma l'individuo che è stato l'individuo che è su nazionalità italiana l'individuo che è sul territorio l'individuo che si rappresenta nel singolo non attraverso un popolo solo perché magari lo chiama pincopallo e neanche attraverso un avvocato esatto non perché si rappresenta in un gruppo in un movimento in un'associazione ma sono i singoli individui che in maniera responsabile dovranno costituire un tribunale è responsabilità e quello lo può fare solo chi è perché non è nella condizione di malizia di cattiveria di odio di ingiustizia di possibilità di ma è nell'amore nella inclusione nell'educazione nell'aiuto nella socialità e allora quando tu mi dai qualcosa io non sarò mai il verbo è quello che tu mi dici io no però io però sono quella cosa che tu hai detto no perché oggi io darò un panno a quello che tu hai detto domani quando io dirò una cosa non è tu sarai nel confronto e magari dirai sai che c'è oggi proviamo questa che dici tu perché così abbiamo l'esperienza la prossima volta l'esperienza dell'altra volta di quello che ho detto io l'esperienza di oggi che dici tu e magari poi faremo ancora meglio in terza battuta faremo meglio perché abbiamo l'esperienza di ciò che ho detto l'esperienza di ciò che ho detto io e faremo meglio e che creeremo passato presente futuro lo applichiamo tutte le volte nell'amore lo applichiamo tutte le volte mentre invece se nell'ego crederemo che ciò che diciamo poi è sempre meglio degli altri sarà sempre nella distruzione e separazione scusa un attimo competenti puntuati i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione e dalla legge quindi qualsiasi status ti vengono riconosciuti i tuoi diritti costituzionali che umani perché la polide ma quindi chi è autodeterminato è fuori nel senso cioè chi è l'autodeterminato è quali le autodeterminati stai chiedendo qual è la programmazione tra l'autodeterminato e un normale cittadino no con l'autodeterminato della polide io voglio mettere a fuoco questa cosa tutti sanno che cosa è una polide che diventano no per esempio che cosa è una polide niente non so un polide sul terreno del mondo esatto l'autodeterminazione è un concetto che la legge riconosce nella sua applicazione cioè ogni individuo si può mettere in auto determinazione chi è l'autodeterminato? chi si riconosce che lo fa esatto è l'individuo che applica l'autodeterminazione la legge nelle sue otto parti ti regolamenta il riconoscimento di quell'applicazione non dell'autodeterminato l'autodeterminato chi è? che etichetta è? anche il cittadino su nazionalità italiana è un autodeterminato anche la polide se vogliamo un autodeterminato quindi l'autodeterminato chi è? ha un status che applichi con la legge sulla polidea la legge che riconosce l'autodeterminazione la legge che applichi nel diritto il cittadino sul nazionalità italiana articolo 9 no no sono io per questo ma non ho capito dai proviamo 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 ad aiutarci legge che riconosce l'autodeterminazione no non l'autodeterminato legge che riconosce l'autodeterminato forse dice l'articolo 31 l'autodeterminato no no è la legge 88 legge 88 81 che è delle 8 parti sono 8 parti che regola limitano il riconoscimento dell'autodeterminato la prossima volta la portate un conto è l'autodeterminato un conto perché si confondono le due cose un conto è l'autodeterminato un conto è l'autodeterminazione 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 è l'applicazione del concetto di autodeterminato autodeterminazione la legge la legge riconosce l'applicazione del concetto di autodeterminazione non riconosce l'autodeterminato e l'autodeterminato non è nessuno un conto è l'autodeterminato la legge è la legge della polidia non è la legge della polidia la legge della polidia perché è il concetto della polidia un conto è il vestito e un conto è colui che lo veste oi guardami un conto è il vestito un conto è colui che lo veste un conto è il concetto di autodeterminazione un conto è l'autodeterminato un conto è il concetto di apolidia un conto è l'apolidia ci siamo anche qui? no perché se mi fai così no no non bisogna confondere colui che veste il concetto vediamo se qualcuno è più bravo che mi ha spiegato no forse credo io che da capire che cos'è una polide e che cos'è un autodeterminato il quale e poi il concetto che viene riconosciuto da fa presto per poi il proprio modo di vivere no dovete partire dal concetto dal concetto per cui qualcuno va a fare una normativa partendo da un concetto che qualcuno viene riconosciuto non è che qualcuno si riconosca bravo bravissima io mi riconosco il concetto della apolidia lui si riconosce il concetto dell'autodeterminazione e mi riconosca bravissima allora la libertà dell'individuo del proprio agire del proprio muoversi del proprio applicare del proprio vivere è individuale in quanto libertà quindi ognuno vive come meglio vivere proprio perché siamo diversi ci sono queste due leggi che regolamentano questi due concetti di libertà uno è la legge sulla apolidia e uno è la legge sull'autodeterminazione la legge sull'apolidia definisce uno status colui che si dichiara apolide la legge è quello che non riconosce cittadinanza si perché è uno status è già uno stato ok mentre invece la legge che riconosce il concetto di autodeterminazione riconosce colui che applica quel concetto in quanto concetto quindi è un po' più generico è un po' più in lato mentre la legge sulla apolidia è colui che si dichiara è definito status il concetto di autodeterminazione rimane il concetto nell'applicazione quindi sta ad ogni individuo applicare quel concetto ecco per quale motivo nella mia conoscenza e studio ho optato per la apolidia perché in maniera molto spicciola mi sommetta questo è riconosciuto questo sono io che devo farlo riconoscere ok lo so che vi è difficile vi è difficile perché purtroppo apolidia si è non si diventa noi siamo grazie molto tutti grazie ciao apolidia si è cioè quando io ho studiato ho fatto delle nozioni apolidia mi sono resa conto che io sono sempre stata quella e allora mi è molto più stato semplice riconoscere quel concetto lì perché io ero già quella quest'altra era un dover continuare a applicare perché era più generico l'avevo fatto per 40 anni ero un po' legale adesso volevo una coccada tecnicamente l'autodeterminato passano distinto ad un altro la polide sono meno in tutto e per tutto nel male nel bene l'autodeterminato se è applica l'autodeterminazione ti lasciai chiusi? ti ci sto facendo arrivare meglio? l'autodeterminato entra in un altro recinto se vuole ok però se ci guardiamo attorno c'è un passaggio in un altro di quelli che conosco io perché l'autodeterminazione è il racconto che hanno applicato alcuni in questi anni che è un'altra roba in tante forme ok ok adesso lasciate stare ok lasciate stare ok andate focalizzatevi sull'881 perché non avete l'entra è difficile perché non avendo l'entra non mi venite dietro e rimanete su quella roba che vi è stata raccontata e applicata in questi anni dovete prenderla e buttarla via perché non è quella roba l'autodeterminazione non è quella roba lì è altra roba per farvela comprendere meglio è il cittadino su nazionalità italiana che mi sto proponendo quella è la roba per farvela bene per capirci a spiccia l'autodeterminazione è il cittadino su nazionalità italiana che mi sto proponendo quella è la roba la prossima però per la sostanza è a polide un passo successivo bravo chi l'ha detto? bravo è un passo successivo infatti a polide prima di testa o sapevoli e successivamente allora la polide è colui che tutta sta roba qui ce l'ha analizzato e quindi non deve chiedersi come posso fare quella roba la polide è quello che fa perché sa di essere quindi però mi dà la sensazione è come che la polide non riconosca il male e il bene esiste il suo bene e il suo male certo è al di sempre di ogni cosa però oggi c'è anche l'onore in modo da non parte male agli altri perché riconosce l'amore come un ufficiale dei suoi comportamenti mai quindi si determina i mali verso quando io sudoro la soglia di non far male al mio prossimo non sei a poli sei 12 di te stesso non sei a poli sei pronto la poli è colui che come primo obiettivo ha il non ledere il mente e nessuno che ritorna a sé quindi chi è che decidi sei tu che decidi perché il tuo obiettivo è di non far del male a lui di non far del male a lui di non far del male a quella famiglia di non far del male io cambio lo status della mia famiglia dei miei figli perché intendo che sia la cosa giusta io non lo so se per loro è la cosa giusta potrei erettare del male io ho cresciuto i miei figli in uno status quando ho studiato la polidia li ho dichiarati voi perché sono già come me come voi il responsabile della vita che ho cresciuto sono io e di conseguenza avendoli cresciuti nell'amore io li ho dichiarati accogli perché so che sono nell'amore nel momento in cui loro saranno in grado di portare avanti quello status lo perderanno perché ci rientreranno il cittadino perché non saranno in grado di portarla avanti ma comunque la loro scelta comunque la loro scelta dopo la scelta è il momento in cui non saranno in grado di portarla avanti esatto perché vi ho detto che la politica non è per tutti perché basta questo e rientri come cittadino italiano questo quindi io non mi devo preoccupare se sto facendo del bene o del male perché già soltanto se mi faccio venire il dubbio che sto facendo del male e i miei figli c'è qualcosa che non perché io dopo il scontato che faccio del bene per i miei figli ciao 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 grazie di essere venuti grazie io nel momento in cui penso che sto facendo cioè se mi creo il dubbio è lo stesso concetto di quando penso che lui possa fare del male e possa fregare a me è uomo se io sto pensando sto avendo il dubbio che posso fare del male e i miei figli c'è qualcosa che non do quindi lascia stare la politica la politica proprio non ti appartiene ma c'è proprio qualcosa che non do a priori perché se io agisco in onore non posso pensare che posso fare del male ai miei figli è qualcosa di talmente dentro che è difficile diciamo perché non l'ho studiato perché però ho capito il senso della folide è grave aiutatemi a mettere in campo questo concetto nel rispetto delle leggi di università sì però però ora lasciati stare la politica perché è questa cosa che mi preme molto questa cosa che ti sta succedendo eh no mi preme anche a me perché è grave il pensiero che tu possa fare del male ai tuoi figli è gravissimo ma in qualsiasi azione della vita uno si pone la domanda e le dice spero un attimo che metto a fuoco che non stia facendo una cazzata perché capita che uno di buona fede agisce e lo portava indietro ma mi non sta a crescere lo stabilisco io nel momento che ho fatto l'esperienza perché non è ma poi è che considerava una non cazzata perché ti ha fatto crescere punto si è ma poi è che considerava una non cazzata perché ti ha fatto crescere certamente ma non solo te anche la mia vita ah beh se sono sulla mia frequenza sì ma no è sempre da favore no esatto no se tu sei in amore no non ce l'hai questo problema questo dubbio che possa essere la cosa giusta ti deve appartenere se sei in amore non ti può appartenere perché qualunque sia il risultato di ciò che tu applicherai è fatto in amore non avrei mai potuto fare la cosa sbagliata io non non chiederò mai se è giusto ciò che sto facendo perché io so che lo sto facendo in amore punto e sai che cosa mi permette questo che mia figlia d'oggi mi dica scusami se mi sono arrabbiata con te ma se mi ho meno punto di riferimento e se io non scavo con te il fatto che mi stanno togliando la mia discenza con chi lo scavo e secondo te non mi sono venuta in dubbio che sono troppo dura perché la stessa durezza che viveva con voi io devo fare da padre con madre e da miei figli ma non mi sono mai curata il problema se ero troppo magari per scherzo qualche volta quando mio figlio è pesante gli faccio anche meno questa è colpa mia di tutto proprio che sei pesante però poi in realtà io ho sempre agito con amore non mi sono venuta in dubbio che fossi troppo rigida vedi come mi dicono voi non mi interessa di cosa va a dire non è un problema niente perché io non cisco l'amore a me di quello che ti arriva a te non mi sesso perché io devo stare in pace con me stessa io so perché ti ho detto quella cosa che è più buona perché agisco con hai bisogno non ho capito non ho capito no no quella è roba mia non si compra io non vedo niente siete abituati che gli altri vendono i libri non vedo niente capito quando può sembrare dura quando io dico non bene fregamente di quello che ti arriva a me dispiace però in realtà è perché io ho fatto un presupposto che io mi sto muovendo con amore ciò che invece dice l'altro l'altra parte è tutto del suo se io a te l'ho detto in un certo modo rispetto a come l'ho detto a lei non è perché lei mi piace di più e tu mi sei più antipatico ma è perché ciò che tu mi è andato a me è tornato indietro ciò che lei ha mandato a me è tornato indietro io i miei figli ho intratto completamente in modo diverso ma perché io arrivo dall'esperienza dove ci hanno troppato nello stesso modo e siamo riusciuti in merda non abbiamo nessun rapporto con i miei fratelli lo sa è una cosa schifosissima ma non per questo io ho demonizzato i miei genitori io li ho ringraziati e sono due anni e mezzo che io non ho più una famiglia ma non per questo mi sono flagelata non per questo mi sono venata non per questo tutte le notti gli mando delle cattivelle io li ho ringraziati perché io non ho dato ai miei figli ciò che io ho avuto la mia brutta esperienza per quanto possa sembrare brutta in realtà gli ho detto è stata la mia mi sono spiegata perché ho vissuto quello io sono quella che sono non ho vissuto quello se avessi vissuto altro sarei una altra persona quindi quello mi ha insegnato a dare a due nuove vite che l'universo ho voluto mandare a me e che loro hanno scelto sta madre e ogni tanto mi faccio bene no ora è una scelta e due quindi non mi interessa quindi io non mi devo preoccupare che posso sbagliare io sono nell'amore lui sarà nell'amore ed è talmente nell'amore che mi viene a chiedere scusa allora quando mi viene a chiedere scusa io li arrivo e dico dentro di me sto facendo perché lì giù in fondo dentro dentro in fondo ogni tanto c'è quella bocina farò facendo meno ma sarà troppo poco sarò esagerata o troppo quando arriva la risposta quella bocina lì giù in fondo dice ma te la mia sta facendo bene però vieni dentro fa parte di noi è una parte di noi ma quello che deve essere noi che è diverso quello che deve essere noi è inamore amore butta fuori amore te ti preoccupate quando è amore va tutto bene quando c'è il dubbio vuol dire che non è amore e allora devi lavorarci ecco perché mi sono voluta soffermare al di là della politia non c'entra niente la politia la politia è una filetta è lo stemmettino dentro la parca che mi sono messa non è niente la politia la politia sono le sei volanti della polizia che l'altro giorno mi sono stata in forno sei volanti della polizia due di carabine a te fermate la scuola va bene la scuola non lo scuola qui si va su altri livelli sui livelli che io non apro facilmente però vi posso dire che l'altro giorno ci sono state ora va bene uno va bene due va bene tre alla terza comincia a dire almeno è il male o il bene comincia a capire c'entra un attimo e cominci a mettere insieme un po' di pezzi perché cerchi di stare sempre radicato sei molto razionale io poi copro molto quell'altra parte e quindi nella razionalità mi sono cominciata a dire allora stavo andando a 140 mi sono andato al culo a 140 mi hanno superato mi sono frenato poi hanno fatto tutti lo stesso verso che una volta dietro al culo sono andati via quindi grazie a la razionante mi dice ok un messaggio che messaggio è? forse è stato del male mi devono fermare? no magari stavo con il reggiro stavo giocando no per me il messaggio finale è stato ci siamo tu stai portando avanti che la tua vita è la polizia noi ci stiamo quindi per me è stato bellissimo anche perché non so se sapete che le volanti hanno il computer per vedere targhi le macchine senza disicurazione senza bollo la targa c'è ancora perché si la spostruttano sul discorso del ma non c'è la targa? ma sì ma non è di un'ora perché dovrei filmare la legge? la prefettata del mezzo non esiste? perché dovrei filmare qualcosa? quindi la targa la spendo anche per due cose poi anche perché non c'è soldi per comprare un'altra macchina e quindi perché se avete saputo di soldi per comprare un'altra macchina avrei fatto quest'altra esperienza di comprare la macchina senza targa e ho messo la targa a conne però non me lo posso permettere quindi per il momento sto sfruttando ancora questa a conne a conne ho al posto della della comunità europea dove c'è il portino azzurro io ho a conne di quali va? no 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 ho preso a conne 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 nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato determinato o esiliato arbitrariamente da chi? da chi? da chi? da chi? a conne a conne a conne a conne che lei è il gioco cosa? ho giusto? ho giusto? Allora, sono le 10 e 10. 10 e 11. Alle 10 e mezza ci stavamo. Quindi, leggiamo altri due articoli. 10 e 10. Poi, mi era stato chiesto di chiarire, ripetere, i concetti dei figli. Cosa fare per i figli. Quindi, velocemente dico questo e poi ci salutiamo. Bene? E la prossima volta che ci vediamo? No, stavolta. Diritti di? Diritti di? Amiane. Amiane. Il 24. Il 24. Ok. E la prossima volta sarebbe bello se i diritti umani devessere tutti e partiamo dalla Costituzione. La Costituzione la facciamo insieme e i diritti umani devessere tutti fare la casa. E dopo anche un'altra cosa, non mi importare. Che l'altra volta si parlava delle autostrade che qua in Pento, che la nostra parla, già cambiamo. L'avete portate? Ma no, avete portato i documenti? Non è un'attivazione originale. Avete portato i documenti a cui studiare? Sì, che lei è compensa dentro, giusto? Non. Non è la percentuale che va alla regione, la percentuale che va alla regione, la percentuale che va a valutare in evidenza per tasse addizionali. No, io ho detto che lei nel pomeriggio quando ci siamo incontrati non lo ha lasciato del signore per i gruppi veneti e avrebbe chiesto a loro se sapevano del perché di questo e abbiamo detto a voi di portare questi documenti, di informarli e parlarne voi insieme perché avremmo fatto un'azione. Va bene, compiti della prossima volta. Lettura dei diritti umani a casa propria. La 881, bravo la portate così la leggiamo insieme. 881, portatela in mano. E poi leggiamo la Costituzione. Ma per ora la porto io. Spettiamo. 11. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua pontevolenza non sia stata approvata legalmente in un unico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. io direi che ci possiamo anche fermare a questo. Metabolizziamo questo, anzi ripetiamolo per favore. A quei punti non sono. No, no, ma ripetiti ma sono certo. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua pontevolenza non sia stata approvata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. Parola. Nessun individuo sarà governato per un comportamento commissivo o domissivo che al momento in cui sia stato perpetuato non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Che cosa vuol dire? Per diritto interno intendeva dire il diritto internazionale internazionale. Però andate nel concetto. Che cosa vuol dire? Quindi si può applicare una pena superiore alla reato. Ma nessuno. Questo è un dire. Chi è che si prende la briga di decidere su un altro uomo? educazione. Nessun uomo può decidere su un altro uomo. Anche i diritti umani educano alla vita. C'è tutto e niente. Per cui, oltre all'articolo 3 di questo diritto, il Green Pass, che ti dava l'obbligo per entrare nel posto di lavoro, non era neanche denunciabile la cosa, finché non viene effettivamente verificato che tu hai commesso reato per non averlo ed essere arrivato nel posto di lavoro. Esatto. Quella cosa dita ve lo chiarita subito, anzi, a tutti voi, no, no, dividissimi, ma che reato state commettendo? Voi dovete entrare, fate fare segnalazione al prefetto, perché è in reazione, perché che reato? Voi l'avete commesso, quindi potete addirittura contronunciarlo. Ma il fatto che loro non avevano questa contura del TPM e poi non l'avevano in alcuna regione mai commettato in legge, ma facevano passare comunque come se fosse stato reato nel caso che fosse andato contro a questa normativa. No, 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 diceva questo. No. Questo era quello che mi chiedevano... Ah, verbalmente. Verreto. Scritto non esisteva questo discorso. Si fa di moda legge. No, 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 al di là di moda legge. Non era questo il discorso. Scritto non era questo il discorso. Ecco perché lo sottolineiamo. Entrate. Ecco perché poi successamente quando si girò la voce, che il video diceva, entrate perché non hanno nessun diritto di fare attenzionamento alla prefettura, perché voi non commettetevi sul reato, dovevate firmare. Ah, scritto. Perché? Perché vi perdevate la responsabilità. No. Ma come? Non sto commettendo il reato. E perché devo firmare? Beh, denuncia. Fai attenzionamento alla prefettura. Ah, no, ti devo firmare. E allora voglio dire che sto prendendo la responsabilità di dichiarare che cosa? Che non sto facendo l'idea. Bravo. Allora, io mi fermerei qui. E in merito ai bambini, probabilmente quello che... Chi è che voleva sapere di questa cosa? Che viene da gli... Ehm, Deborah? Deborah? E allora qua. E allora qua. Deborah? Grazie. Mi vuole una amica. Deborah, chi erano tagliesi che voleva sapere? Ah, le mie amiche qui, ormai c'è in base a via. E che parlo col muro? Non ce la fai? Non ce la fai? Ho parlato anche con lui. E no, allora, se c'erano dei abitetti, dei società, qualcuno non lo sa vedere della società? Ma il visitore non mi piace solito? Eh, no, no, per le imprese. Eh, per le imprese, per le imprese, per le imprese, per le imprese, ma poi c'è un'uomo di imprese. Ma comunque... Se vuole un'uomo di una cosa, se vuole collaborare con la gente, se vuole un discorso di caricare, se vuole fare di una cultura. Ok, ok. Allora. Grazie. Diceva che ha parlato con un imprenditore della possibilità di evitare la fattura in quanto non riconosce l'IVA e quindi rifare una struttura pregatta. Di questi imprenditori gli ho detto no, perdi il posto di lavoro. No, ma questo non è che io mi togli il lavoro, io non ho molto complessivo e così via. Quindi se in generale si vuole per la società, non puoi, non fai fatica. Ah, che è già diverso. No, lo devi dire, è già diverso. Fare fatica. Vedete la consuetudine della non conoscenza? Gli si dice, anziché prendere questo messaggio e dire, studiamo insieme. Andiamo a vedere se, perché, come, in che modo. Fai fatica. Che vuol dire fare fatica? Studiare. Studiamo. Primo concetto spicciolo. Come mai gli lavori con l'estero non pagalità? Come mai gli compri all'estero non pagalità? Probabilmente perché il concetto di l'IVA è un concetto astratto, come il concetto di maggiore minorità, come il concetto di, lo sapete che non è prevista la maggiore minorità, la costituzione? Chi vende all'estero o chi compra dall'estero? Chi vende all'estero, chi compra all'estero. Chi vende all'estero e paga l'IVA è il coglione italiano che non compisce. Chi compra all'estero, tutti, non paga l'IVA. Però il coglione, quando poi arriva, dichiara che ha comprato e paga l'IVA. Solo noi italiani possiamo fare sta roba qua. E chi la propria e la resta? Uguale? Ha una scrittura privata? All'editori mortacci, sì. Ciao, ciao. 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 A rivederci. Ciao. Ciao. Cogli un concetto di me che vende un po' che va all'estero, siccome l'IVA è un imposto su qualore aggiunto, in automatico deve aspettare una cosa italiana, oppure c'è una convenzione particolare per quale chi compiere in questo caso l'Italia è esumerato dal pagare l'IVA e per questo motivo non si applica, no, se colui che vede il proprio prodotto italiano non applica l'IVA è perché di là qualcosa, ok, ok. Perfetto, quindi in merito a questa disposizione italiana nel momento in cui noi usciamo, quindi il concetto è sempre lo stesso, nel momento in cui noi non riconosciamo quelle disposizioni italiane messe in atto dal governo, dai suoi accordi, dalle sue convinzioni, dalle sue disposizioni, normative, tutto ciò che è successivo alla Costituzione e soprattutto dei diritti umani e dei diritti internazionali, se noi non lo riconosciamo che fatica dobbiamo avere? Quella di istruire l'altro, attenzione, istruire l'altro, ma noi siamo parte del cambiamento, se vogliamo, non dobbiamo spaventarci della fatica, siamo stati chiamati ad essere parte del cambiamento, quindi è stata domandata da ognuno di noi quella fatica nel proprio ambiente di essere il cambiamento. E allora se io nel mio ambiente dovrò rapportarmi con Tizio Caio Sempronio, io attuerò l'insegnamento, l'educazione, con la legge, la verità, la giustizia e la fatica dell'applicazione di tutto, con Tizio Caio Sempronio. Se tu dovrai avere a che fare con Paterino, Topolino e Giuseppe, applicherà la verità, la giustizia, la legge, con la fatica, con Paterino, Giuseppe e Topolino. E così via. Ognuno nel proprio ambiente sarà demandato ad applicare la sostanza e quella. La sostanza è la verità, la giustizia e la legge. La verità è quella. Per tutti il pacchetto è quello. Ognuno lo applicherà nel suo ambiente, nella sua volontà, nella sua quotidianità, nel suo cambiamento. Ognuno di noi farà il cambiamento e l'obiettivo qual è? È che cambiamo il mondo. Quindi tu dovrai avere, io ho avuto a che fare con le mie società elettrica, quello dell'acqua, le aziende con le quali io compro, alle quali ho detto che non avrei dovuto più fare una fattura in un certo modo, quello dell'elettronica non la dovevamo più fare, quello non lo dovevamo più fare, così via. Ma quindi in questo caso se faccio con le scritture private, loro in qualche modo si scaricassero? Sì. Sì. Loro, quella scrittura privata, come fanno con il rapporto con l'estero, che poi prendono, registrano e ci attropa a lì, ma loro pagano, poi che non vi pagano, e poi anche se è tutta una stranzata. Non lo scriviamo, allora che è tutto. Come fanno con l'estero? Così faranno all'interno del territorio, perché noi siamo fuori da quella rappresentazione. Quindi noi produciamo una scrittura privata, loro quella scrittura privata, ecco perché non facciamo attività inicità, perché noi mettiamo l'estero bianco, perché la cattura è una scrittura privata, soltanto che essendo all'interno di un meccanismo, di una piramide, di più piramidi, ci deve mangiare il pinzocario e il semplonio e allora c'è una regolamentazione. Ma in realtà è una scrittura privata. Lì c'è scritto, i dati del lupi, i dati dell'altro, cosa si stanno scambiando, come viene parlato. Poi c'è questa posizione, questa posizione di quest'IVA. Poi c'è la registrazione, tramite esizio a cario. È tutto il cibo. Ma è una scrittura privata. Quindi loro prenderanno la vostra scrittura privata, la registreranno e ci metteranno l'IVA, ci faranno più detenzioni. Quindi anche se lo vanno a parte di una carta, non è un problema. A noi, di cosa fanno loro? Se ne frega niente. Noi dobbiamo applicare la legge. Noi non dobbiamo riconoscere, per rimanere coerenti, ciò che è nel meccanismo. Quindi la registrazione. Lunedì avverrà un contratto di affitto come si chiama? A riscatto. Quindi un affitto con riscatto perché poi dopo cinque anni comprenano questi immobili. Lo faranno con una scrittura privata. E la trattata è una ponte di lui. E lui ha fatto una scrittura privata come a Polide e lo presenterà il documento di Polide. Un'altra cosa che volevo chiedere perché io, più avanti, i primi di commerce, su dei corsi e poi avanti e così via. Nel caso un cliente debba pagare, e lo fa quindi in maniera automatica, lì la scrittura privata come si applica? Cioè senza che devono stare dietro a centinaia di scrittura private, vuoi fare un presentato dove cambi soltanto l'intestazione. E' lo stesso discorso di colui che scambia il caffè piuttosto che la pettinata, la parrucchiera, il barrista, piuttosto che quello che vede il maianniste. Che cosa faranno? Faranno un blocchetto con doppia copia e ci sono, ci sono, fatti esistevano i doppietti, con le doppie copie. Che risuoni di consegna. Bravissima. E che cosa faranno? Se li creerà, creerà. Che cosa sta dando? Che cosa gli viene dato? Un caffè? Un euro. Può faranno un altro bigliettino con un caffè, una pasta, due euro. Un pezzettino che era dato a quell'altro e un pezzettino che era dato. Ok. Laddove è quello? Puoi fare il presentato. Laddove ogni volta è una prestazione diversa, è un servizio diverso che viene pagato in un modo diverso, allora farai una scrittura che l'acqua non versa. Le scritture predicate ad oggi consiglio di inviarmi per presa per visione alla procura, cioè all'autorità proposta alla scuolezza. Ok. Una volta, quando vivevamo in una maniera più semplice, bastava la cosa uno la cosa un altro, basta. Ok. Però una volta si lascevano anche nel fianco vicino alla porta. Ma se fosse un discorso di quell'evento che ci interviene e se sono ancora dentro il sistema non posso fare le scritture di guarda. Diciamo che quelle attaccano. Eh, non potete. Eh, sì. Ti possono ehm... Ti possono concentrare. Ti possono aggredire che essendo un'immiguitizitela devi usare la loro esatto, le loro scritture. Ok. Ah, va bene. Allora, ci salutiamo. Andiamo che mi si spiace. E io vi ringrazio tutti, ci vediamo la prossima volta per chi vuole e per chi vuole la prossima volta andiamo con la Costituzione. E l'autotunto. L'autotunto. Vengiamo. Buona serata. Buona cena. Grazie a voi. Grazie. Grazie.